E ciao a tutti signore e signori, siamo ancora noi con i 5 GG Branches per castare questa volta la finale di questo torneo in win organizzato da Dota2.it, Easy Fix e Next Gaming, le squadre di stasera, siamo nel pre-show e con me, vedete, ai due lati abbiamo i miei co-caster e stats preferiti, Cyber e Nirvana. Non so, abbiamo pensato di fare una breve introduzione alla partita, parlando un attimino di questi due team, Nirvana per esempio è amico con diversi di questi giocatori, quindi qualcosa inside ci può dire Cyber con le sue stats, anche qualche piccola visione su come sta andando il torneo per queste due partite. Ci siete ragazzi, ciao! Sì, ci sono, ci sono, ciao a tutti ragazzi, ciao Chaos, è sempre un piacere castare con te questi game, no? E bene, come mi hai detto sì, conosco quasi tutti i player di entrambi i team e devo dire che ovviamente sono arrivate in finale forse le due squadre che attualmente stanno esprimendo un po' il Dota migliore in Italia, no? C'è ovviamente gli Easy Fix con Capitanati da Ciano che sono forse, a detta di molti, la squadra più forte in assoluto in Italia, quindi i next game magari partiranno stasera un pochino svantaggiati, però mai dire mai, nel senso che io vorrei magari qualche vittoria nuova, no? Perché è un team nuovo che riesce a vincere qualche partita. Beh, cosa c'è da dire su questi team? Penso che tutti conosciamo gli Easy Fix, composti da Ciano come capitano, Giga, probabilmente il midder più forte qui in Italia. Poi, vabbè, ci sono Zenigata, il famosissimo Trent Protector, no? Anche lui un player di grande, grande esperienza, pesce e art. Tutti, tutti gran player, veramente, veramente molto, molto bravi. E dall'altro lato, anche per quanto riguarda i next gaming, abbiamo comunque una line-up molto esperta, con Cirri e Derde che giocano i support. Poi abbiamo... La line-up ultimamente è cambiata, adesso ho un video... Sì, appunto, è una delle cose che volevo parlare durante questo pre-show. Gli Easy Fix sono una line-up stabile già da diverso tempo, invece nei next gaming c'è stato un po' di cambiamenti al loro interno. Pensate che influirà un po' sull'andamento della partita? Beh, di certo può influenzare, non so quante esperienze abbiamo avuto insieme con i vari giocatori, con i nuovi arrivati. Però, di certo può influenzare, ecco, la sinergia, diciamo, l'affiatamento fra i giocatori è sempre una cosa importante, specialmente quando vai ad affrontare una squadra abbastanza rinomata e di grande esperienza. Quindi, se vedremo qualche errore di comunicazione, non dovremmo stupirci. Se invece avremo del GranBeldotto, insomma, del GranBeldotto, specifichiamo, sarà una bella cosa. Sì, e magari, Nirv, chi sono i stand-in di questo team? Mi sto informando attualmente. E dovrebbero essere micchi, cioè, c'è solamente micchi come stand-in, perché Seven giocherà in posizione offlane, credo. Sì, anche Seven comunque non è tanto tempo che nei next gaming, giusto? Scusami? Seven Day non è tanto tempo che nei next gaming. Sì, sì, l'hanno giunto da poco, effettivamente, perché la lane-up che si è presentata al torneo lì a Lucca era composta da Link, Miki, Cirri, Derde e avevano ancora, se non ricordo male... Eh ragazzi, l'età fa brutti scherzi, eh? Sì, io non c'ero fisicamente, quindi... Oddio, chi era il quinto? Niente, mi sfugge un quinto, mi sfugge un quinto. Eh sì, ne sfugge sempre uno. Seven assolutamente non era con i next, giocava con gli impulsive e... Boh, non mi viene in mente, comunque a breve avremo le news per quanto riguarda i... per quanto riguarda i player dei next gaming, che probabilmente saranno... Ah, ecco, è Levi, è Levi, mi ero dimenticato di Levi. Ecco, povero Levi, mi dimentico sempre di lui. Povero Levi, povero Levi. Ok, quindi allora la lane-up con Firmined sarà Cirri, Derde, Levi, Seven e Miki. Perfetto, perfetto. Che dire, che dire su questi player? Come dicevo prima, sono tutti comunque player di grande esperienza, no? Eh, Levi forse ha girato da offlane, ruolo che giocava prima, a mid, con la mancanza di link che, credo, ha preso una piccola pausa dal Dota. E quindi Levi sarà il nuovo midder dei next. Forse magari questi piccoli cambiamenti di lane, come diceva prima il buon cyber, possono influenzare un pochino il rendimento di una squadra. Però a volte ci possono essere delle sorprese, nel senso che a volte questi piccoli cambiamenti possono portare aria nuova nella squadra. Ecco, nuove metodologie di gioco e magari potrebbero addirittura sorprenderci con una vittoria su Easy Fix. Tu che ne pensi? Chi sarà? Chi è la squadra favorita? Chaos. Ma, eh, sì, ormai, anche, possiamo anche guardare, no, dal, dal sondaggio che c'è che sta andando nel nostro canale Hitbox. Per adesso in vantaggio è il voto a Easy Fix, quindi un po' tutti si aspettano che siano i preferiti in questo scontro. Come dicevi, le sorprese ci possono sempre essere. Per quanto riguarda un po' il modo di piccare il metagame, un po' le preferenze di questi eroi, vi aspettate qualche eroe preso sicuramente o magari a qualche poche stress o qualcosa di questo tipo? Allora, sono un po' straordinario in realtà, non so se avrei notato com'è. Sono perfettamente in meta, ovviamente l'esperienza fa scegliere, diciamo, un picco piuttosto solidi. Ho visto usare, mi pare, proprio agli Easy Fix, adesso non vorrei sbagliare, non mi ricordo bene in che match, non l'ho cassato io, un Omni Knight più Shadowfin, non vorrei sbagliare? Qualcuno di voi ha seguito il match? Sì, 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 parlavi dei Next o degli Easy Fix, perché questa strategia l'hanno adottata entrambi. L'hanno adottata entrambi, però mi sembra che i primi fossero stati proprio gli Easy Fix. Sì, sì, proprio nella Grand Final del torneo lì a Lucca c'era stato un Shadowfiend giocato da parte di Giga in posizione mid, con Zenigata che gli faceva da babysitter mid. Sì, sì, sì. Poi Shadowfiend è uno degli eroi per i quali, diciamo, è più conosciuto. Giga, se non sbaglio Templar Assassin, un giocatore veramente molto forte, che con certi eroi riesce a esprimere appieno il suo potenziale e poi spesso porta a casa le vittorie. Non dico da solo, perché chiaramente la squadra deve fare anche il proprio, però con giocatori di esperienza accanto riesce a portare le vittorie. Sì, sono d'accordo con te, Cyber. Nel senso che la strategia degli Easy Fix magari è quella un pochino di puntare, più sul farm del loro posizione 2, Giga, in mid, che su arte e il loro carry. Infatti ultimamente ho visto giocato, per esempio, un Centaur, un Centaur War Runner da parte di arte, mentre mid veniva giocato un Brewmaster che era in top farm, era il hero con più gold nello zaino a disposizione. Quindi sì, puntano molto su Giga. Giga è il loro ariete di sfondamento, diciamo così. è quello su cui puntano di più. Magari un pochino alla EG, quando giocavano con Artisi mid, non so se ricordate, Artisi giocava mid e veniva babysitterato da tutto il team e quindi era l'hero che farmava più di tutti. È un pochino questa forse la strategia degli Easy Fix. Comunque hanno Ciano, che è draft, conosciamo tutti l'esperienza di Ciano, quindi c'è sempre da sorprendersi. Non sappiamo mai quale sarà esattamente la loro strategia. Assolutamente, vedremo cosa ci prospetterà questa partita. Un po' che... pensate, no, a questo si discute, no, un po' dei pick, anche da questo punto di vista ogni tanto. Pensate, convenga magari al team che è dato sulla carta magari un po' più svantaggiato, provare qualche strategia strana, qualche eroe un po' diverso, oppure è meglio restare sempre sullo standard. Le finali difficilmente ciò avviene. Dipende molto ovviamente da come avviene il draft, da quali sono i band, da ciò che si aspetta dal team avversario, insomma. E poi dall'avere proprio giocatori magari che utilizzano spesso un determinato tipo di eroi, io sempre parlavo di Gini in questo caso. Magari con il primo alle spalle, ecco, vinto. Può prendere alla sprovvista quel team avversario. Ma in un primo game, o in un game molto importante, magari eviterei personalmente. Sì, assolutamente. Tendenzialmente in una grand final, comunque nelle partite importanti, si tende a fare dei pick molto solidi. Si fanno... i pick particolari, diciamo, vengono presi nei momenti di tranquillità e di sicurezza, ecco. Comunque la lobby credo che sia cominciata, no? Manca poco. Sì, hanno cominciato con la fase di draft, quindi possiamo anche lanciarci immediatamente a darne un po' un'occhiata. Allarghiamo lo schermo. E vediamo già un po' dei ban piuttosto standard con l'eliminazione del Tidehunter, del Viper e del Brewmaster dai due team. Da questo punto di vista direi che siamo assolutamente in linea con le partite che abbiamo già visto dei due team. Sì, sì, sono dei ban standard. Ultimamente sono rimasti forse un po' scottati i Next Gaming. Non so se giocavo contro di loro. Giga è un Brewmaster che era veramente, veramente fiddatissimo e ha dettato le redini, ha dettato, insomma, i ritmi della partita. Poi sappiamo il Lycan, un iro che conosciamo benissimo. È un gran farmer, un gran pusher, fa tanti danni. È un eroe molto insidioso e molto fastidioso. Dall'altro lato sono stati già bannati Tidehunter, che non mi stancherò mai di dire è forse l'offlane più forte attualmente in questo meta. Perché con il suo Ravage riesce a settare in maniera perfetta i teamfights. E Viper è un eroe che è giocato sia in mid sia in posizione di farm. Posizione 1 è un eroe molto molto forte, molto stabile. E intanto è stato preso, logre, dagli Easy Fix. È sempre uno degli eroi più piccati ultimamente. Si basa un po' anche sulla fortuna per riuscire a farlo valere un po' di più. Easy Fix, lo gioca Ciano l'ogre o lo gioca... Chi lo gioca l'ogre? Eh, non saprei. Probabilmente lo giocherà Zinigata. Però non ne sono sicuro, dipende ancora dal secondo support. Quindi tu preferiresti in linea di massima giocare l'ogre in posizione 4 rispetto alla 5? Sì, sì, assolutamente sì. Nel senso che... Comunque dipende, è sempre relativo dal secondo support. Tendenzialmente l'ogre Magi o Ogre Magi... Quando riesce a chiudere l'aga, molto fast, diventa veramente una macchina di morte. Diventa veramente un eroe broken, completamente broken. Quindi assolutamente se è possibile lasciargli farmare un fastaga, fa bene. Fa assolutamente bene al team. È andato dall'altro lato il pick di Jakiro, no? Anche questo è un eroe molto molto piccato negli ultimi mesi, no? Conosciamo tutti benissimo la sua forza, il suo liquid fire che asfalta completamente le torri e dà veramente fastidio anche agli hero. Quindi molto molto bene. Titan anche, per quanto riguarda i next gaming. Un altro hero molto molto piccato. Cosa ne pensi, Chaos o Cyber? Cosa ne pensate di questo Titan? Beh, innanzitutto mi piace a livello personale. Ho sempre credito a questo eroe. Poi è un eroe che fu piccato fin da subito, fin dall'entrata nella Captain's Mode. Poi è stato abbandonato per un certo periodo. Beh, allora, lo spirit è una spell molto molto versatile. Sia fa parecchi danni, sia direttamente, sia attraverso il danno che aggiungi ai tuoi attacchi fisici. Dà una buona visione. E ti consente di iniziare bene con l'Eco Stomp o di salvare un compagno o qualcosa del genere. E il Natural Order è veramente veramente devastante, in particolare contro certi eroi. E l'Heart Splitter, beh, lo conosciamo tutti. È una delle ulti, penso, più devastanti di tutto l'intero gioco. Intanto per l'Easy Fix è arrivato anche il Wish Doctor, il secondo support di cui parlava Nirvana. In questo caso un po' cambia anche qui la situazione, perché, non so, parlavamo di priorità di farm prima, ma a questo punto tra Ogre e Wish Doctor non so quale sia preferibile portare ad alti livelli a qualche oggetto, ma era un Agarim veloce prima. Sì, sono entrambi i due support che necessitano di un Agarim. Necessitano veramente di un Agarim. Adesso non saprei come sceglieranno di comportarsi gli Easy Fix. Nel senso che hanno Jakiro che con l'Ice Path e Elder Titan che con il suo Stomp riescono a stunnare davvero a distanze siderali, riescono a sparare degli stun davvero molto, molto, molto distanti. Quindi forse la scelta migliore è lasciar farmare gli logremaggi, metterlo in posizione 4 e sacrificare un pochino quel VD. Comunque ancora tutto da vedere, vedremo comunque quali saranno gli altri pick. Ci vedrei molto molto bene un Void affiancato a questo Witch Doctor che ultimamente ho visto fare veramente dei disastri, no? Chronosphere e Death World dentro la Chronosphere fanno davvero tanti danni. Sì, 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 tantissimi. Siamo un po' bannati da solo il Faceless Void e anche lo genere. Ah, sì, dall'altra parte c'era un Jakiro più Death Titan che allo stesso modo, diciamo, non sono eroi gradevoli da avere contro quando hai anche un Faceless Void da affrontare. Ecco, per chiari motivi. Eh sì, assolvente sì. I next gaming stanno prendendo un bel po' di tempo per decidere quale sarà il loro ultimo ban, devono un po' capire quale sarà la strategia del Easy Fix. Deciscono di eliminare il Batrider, quindi una possibilità in offlane per controllarli. Pensate che sia un po' un'indicazione della loro voglia di scegliere un hard carry, magari giocare un 4 proteggi 1 o qualcosa di questo tipo? Potrebbe, potrebbe sicuramente, potrebbero voler prendere un qualche eroe magari molto suscettibile ai... Ecco, per esempio questo, un BKB Carry in questo caso, che è piuttosto suscettibile ai lunghi controlli. Sì, la PA l'abbiamo già vista, ha giocato a mid da parte di Levi. Quindi sappiamo, no? Quanta potenzialità ha di farm la Phantom Assassin, che nonostante tutto riesce, anche contro magari un eroe ranged nella middle lane, grazie al suo dagger, riesce comunque a farmare qualche cosina. Quindi adesso poi c'è lo Sven, per quanto riguarda Easy Fix, che sicuramente sarà in posizione di farm, sarà Liro che farma. E... è bene, è bene, perché in combo Witch Doctor e Sven anche si fanno tanti tanti danni, no? Grazie allo splash dello Sven e alla Death World del Witch Doctor R. Quindi... beh, un team molto aggressivo, secondo me, quello degli Easy Fix. Sì, assolutamente, questo Sven ha, direi, ottime potenzialità. Un po'... è un eroe Forza, quindi, anche se... E' un po'... si gioca un po' in modo diverso da tanti altri eroi Forza. Potrebbe avere qualche problema da questo... da questo Necrophos, pensate che... Potrebbe fare la differenza... e soprattutto, dove pensate andrà in lane questo... questo Necro? Hmm, questo Necro? Questo Necro... beh, sicuramente non ha la possibilità di... oddio, potrebbe anche stare in farm una Phantom Mid, però ho bisogno un po' vedere quale sarà l'evoluzione del draft degli Easy Fix, ecco. Perché, in questo momento, le possibilità sono due, Necro Mid e la Phantom Assassin in Carry, Position, e poi viceversa, però. Questo dipende un pochettino dal draft, ecco. Questo Silencer è di giga. Questo Silencer, sì. Direi di sì che... ...porterà un sacco di problemi all'altro team. Eh sì, il Global Silence del Silencer, conosciamo tutti, no? La... la sua grande potenzialità, eh... sono ben... ...quattro, se non ricordo male, eh... sì, cinque, sei e sette secondi di Silencer, che scalano molto bene, eh... ...è un eroe molto fastidioso, il Silencer. Eh... riesce tranquillamente a vincere la mid, grazie ai suoi nuke e ai suoi mana burn, eh... ...e poi dopo, in late game, con la sua... seconda spell, con la sua... ...claves of winsome, fa veramente parecchi, parecchi danni. Eh... Stavo... stavo anche considerando un pochino come può essere la lane-up, il... ...come decideranno di disporsi nella... sulla mappa, i next gaming. Eh... credo che adesso quella Phantom Assassin sarà molto, molto probabilmente mid. Eh... il... ...Nagia Kiro, eh... andrà in offlane, eh... ...Necrophos più Titan sicuramente andranno nella posizione... nella... nella lane di farm, no? Con, eh... il Necrophos supportato dal Titan. Quindi vedo magari un ultimo support per quanto riguarda i next gaming. Eh... vedremo quale sarà. Eh... per quanto riguarda gli Easy Fix, invece, eh... ...manca magari un offlaner. Manca ancora, magari, eh... posizione 3. Cosa ne pensate? Quale potrebbe essere l'eventuale offlaner per quanto riguarda gli Easy Fix? Oh... ci sono parecchie possibilità. Eh... eh... ...tanzitutto dobbiamo vedere come imposteranno una linea. Certo, non hanno... non hanno... non hanno... non hanno nemmeno orribili possibilità da... ...per quanto riguarda una lane aggressiva. Non so se faranno questa scelta, ecco. Bion Venomancer da prendere i next gaming. Con Offlane, effettivamente, sarei... sarei veramente molto curioso di... ...di vedere che cosa prenderanno. In questo momento non ho, effettivamente, una... una buona idea, dicevamo, formata. Intanto io mi correggo, quindi... ...la scelta del Venomancer per quanto riguarda i next gaming... ...eh... sicuramente significa che... ...Jakiro e Titan andranno support. Il Jakiro, quindi, non... non giocherà in posizione 3, ma sarà... ...eh... posizione 4 o 5. 4, probabilmente. ...e... quindi vediamo, manca ancora l'ultimo pick per quanto riguarda gli easy fix. Vuole counterare, forse, un po' il silencer con lo spam di ward? Mmm... Secondo te? Con lo spam di ward? Ah, 10 mid, quindi magari mandare il Venomancer mid e spammare le ward con... Bello, si è visto molto da S4 questo pick di Venomancer mid... ...utilizzato con... ...con effetti, comunque, con buona efficacia. Sì, è molto fastidiosa. Le già Twitch avrebbe detto qualcosa di diverso qualche giorno fa, ma... ...comunque sì, lo si è visto anche... ...anche una settimana fa o anche prima. Potrebbe essere interessante. È una cosa un po' vintage, nel senso che... ...lo si giocava tantissimo tempo fa su Dota 1, il Venomancer pusher con le wardine mid. È veramente fastidioso. Intanto Death Prophet. Death Prophet, last pick per gli easy fix. Interessante, perché questo... ...cambierà un po' le lane, sì... ...perché a questo punto... ...dovranno... ...vedremo chi sarà in mid lane, se ci va... ...e quindi la Death Prophet in mid lane. Vedendo così. Eh sì, vedendo la scelta del player... ...quindi avremo uno Sven in off lane, forse faranno B lane. Forse faranno B lane... Potrebbe anche esserci una trilane offensiva. Che ne pensi con questi pick? Mmm... ...sì, potrebbe, però... ...dato che Pesce ha piccato lo Sven... ...e credo... ...credo ci saranno delle B lane. Witch Doctor Sven e Ogre Magia High Silencer. Hanno una strat molto molto aggressiva agli easy fix. E poi ovviamente vabbè... ...Giga giocherà la Death Prophet e andrà in mid assolutamente. Non ci sono dubbi su questo. Concentriamoci invece magari un pochino anche sui next gaming. Vediamo Seven che giocherà il... ...probabilmente il Venomancer in off lane. Miki che gioca il... ...Il Necrofoss in posizione 1 si è in posizione di farm. Levi andrà in mid con la Phantom Assassin. E Derd e Ciri... ...supporteranno la partita. Ragazzi scusatemi, questa sera... ...non ci sono troppo con... ...con la testa. Sono un pochino... ...tordito dal sabato 6 dai. Quindi sì, queste saranno le... ...le lane up. Perfetto, direi che tutto è un po' abbastanza chiaro. E quindi... ...sarà un po' una battaglia tra push e contro push. Perché entrambe i team hanno ottimi eroi per... ...per riuscire a buttare giù le torri piuttosto velocemente. Anche se... ...non dimenticheremo un po' di team fight con i diversi eroi. C'è da notare un po' che questo Witch Doctor però... ...non ha a disposizione un setup come potrebbe essere... ...la Chronosphere del Void. Quindi... ...potrebbe fare un po' più difficoltà a riuscire a lanciare la sua Ultimate... ...al completo. Nell'altro team ci sono... ...diversi... ...diversi Disable. Soprattutto se magari riusciranno a guadagnare qualche... ...Eul rapidamente... ...il Titan o il Jakiro. Vedremo cosa faranno. Probabilmente i team fight saranno utili l'insegna del... ...del Silencer e della sua... ...bravura nell'utilizzare il... ...Global Silence al momento opportuno. Eh sì, assolutamente sì. Stavo un attimo considerando... ...per quanto riguarda gli Easy Fix magari questo Sven... ...lo vedo un pochino fuori... ...fuori dal core... ...un po' fuori dalla strat. Nel senso che hanno tutti... ...tutti danni... ...tutti caster... ...sono tutti danni caster... ...a parte ovviamente le due big ulti di... ...Dead Prophet e di... ...eh... ...e la Death World del Witch Doctor... ...che sappiamo benissimo sono entrambi danni fisici... ...eh... ...eh... ...poi però abbiamo un Ogre Maggi che spamma davvero tanto... ...davvero tanti danni magici... ...eh... ...il silencer che anch'esso ha... ...una discreta quantità di danni magici... ...lo Sven... ...lo Sven magari vogliono sfruttarlo per il suo War Cry, no? ...è una skill molto molto forte che... ...da tanto movement speed e anche tanta armor... ...allo Sven... ...quindi è molto utile. Ehm... ...ehm... ...dicono di andare... ...i player c'era stata una pausa... ...avevano problemi in TS... ...sembrano... ...sembrano risolti... ...e si comincia ragazzi... ...si comincia con questo primo game della Grand Final del... Torneo in win... ...assolutamente... ...come pensavamo la PA... ...andrà mid... ...è stata pullata tre volte... ...tre dango... ...forse... ...sono un po' eccessivi... ...e direi che... ...non avrà tanto la possibilità di usarli... ...considerando il cooldown... ... sarà come dicevi... ...duel lane... ...come si stanno spostando i giocatori... ...cerà un Venomance... ...e un Titan... ...in offlane per il next game... ...invece... ...miki con... ...il... ...necrophos... ...accompagnato da Crochetta... ...in... ...in safe lane... ...invece... ...per adesso c'è uno smoke di... ...quattro... ...anzi... ...tutto il team degli Easy Fix... ...probamente in spedizione di Warding... ...ma magari vediamo... ...se riusciranno a trovare... ...qualche giocatore sproveduto... ...in mezzo al loro jungle... ...eh... ...sì... ...sono un pochino isolati... ...quel... ...miki con il Necrophos... ...lo vedo un po' male... ...giustamente sta sotto torre... ...è difensivo... ...ehm... ...c'è stato attenzione... ...è stato un reveal quella Ward... ...è stato un reveal... ...è stato un reveal... ...è scaduto... ...è scaduto la smoke, no? ...sì, sì... ...è scaduto... ...e quindi... ...sì... ...hanno piazzato... ...una Ward qui... ...in top lane... ...che blocca... ...che blocca... ...che blocca il campo... ...quindi blocca eventuali pull... ...per quanto riguarda i next gaming... ...un nulla di fatto... ...no? ...si è concluso in un nulla di fatto... ...quella Ward... ...ha semplicemente... ...eh... ...portato al... ...quella smoke... ...scusate... ...ha semplicemente portato... ...ad un piccolo Warding... ...che credo... ...verrà fast dewardato... ...per quanto riguarda i next gaming... ...e intanto... ...in bot c'è... ...anche i next gaming... ...sono riusciti a... ...posizionare una Ward... ...nella... ...nella giungla nemica... ...questa non blocca il campo piccolo... ...quindi... ...ci sarà ancora la possibilità di... ...fare i pull... ...per easy fix... ...ma darà sicuramente... ...una buona visione... ...ai due off laner... ...che invece... ...a quanto pare no... ...hanno cambiato idea... ...l'hanno rispostato... ...l'elder titan... ...in safe lane... ...quindi sarà... ...a tutti gli effetti... ...una trilane contro... ...in pesce e Ciano... ...con Sven e Witch Doctor... ...pensate che sia... ...una buona idea... ...anzi... ...è una trilane... ...perché sta arrivando... ...anche loro... ...pensate che sia... ...una buona idea... ...a fare... ...scontrarsi in trilane... ...in questo modo... ...magari uno dei due team... ...avrebbe dovuto magari... ...cercare di... ...sacrificare una lane... ...e cercare di guadagnare... ...qualcosa in più... ...da qualche altra parte... ...non saprei... ...nel senso che... ...la vedo più solida... ...la lane up dei next gaming... ...necrophos... ...Giakiro e... ...Elder Titan... ...li vedo un po' più stabili... ...rispetto a... ...Witch Doctor... ...Sven eo Gremaggi... ...e intanto... ...giustamente... ...Mickey ha preso... ...L'Aura... ...L'Airstopper Aura... ...già a livello 1... ...per cominciare a infastidire... ...già in questa trilane... ...i giocatori avversari... ...per quanto riguarda... ...i last hit... ...per adesso siamo in... ...relativa parità... ...tra i due giocatori... ...e tra le varie lane... ...anche se forse... ...ci sarà un po' di aggressione... ...mid... ...arriva Zvenigata... ...arriva lo stun... ...ma Levi Ackerman... ...Aulo Stout Shield... ...comincia un po' a resistere... ...a diversi attacchi... ...c'è uno stun ancora... ...fra 5 secondi... ...ma non è abbastanza... ...Zvenigata... ...e costretto alla ritirata... ...non so cosa pensavano... ...non credo fosse... ...un gank... ...che poteva andare... ...andare bene... ...Dead Prophet... ...e Ogre da soli... ...uccidere una piala... ...vedo abbastanza difficile... ...eh... ...sì... ...però... ...devo dire la verità... ...era un pochino basso... ...quelle Levi... ...magari se Giga... ...avesse cessato un po' di più... ...avesse seguito... ...e fosse riuscito a sparare... ...il suo secondo Crypt Swarm... ...magari... ...poteva andare giù... ...certo... ...sicuramente la... ...la PA è un eroe molto... ...molto fastidioso da buttare giù... ...a meno che... ...non ci sia una rotation... ...di entrambi i support... ...un Ogre Maggi... ...con solo lo stun... ...ha davvero... ...fa davvero tanta... ...tanta difficoltà... ...tanta fatica... ...a buttarla giù... ...intanto c'è la rotation bot... ...sì... ...c'è una rotation bot... ...vediamo se avrà successo... ...per adesso... ...Arte sta avendo... ...qualche difficoltà... ...contro questa due lane... ...anche se il Venomancer... ...è ancora a livello abbastanza basso... ...e... ...non può... ...dar più di tanto fastidio... ...e in tutto questo... ...hanno deciso di... ...sacrificare... ...di lasciar perdere... ...l'idea di fare una 3 lane... ...perché... ...intanto... ...Zenigata si è già spostato... ...nella sua safe lane... ...ha cominciato a pullare... ...per guadagnare... ...un po' più... ...di livelli... ...direi che questa è un po' ...la conferma definitiva... ...che sarà... ...L'O Grey... ...l'eroe in posizione numero 4... ...che cercherà di farmare... ...un po' di più del... ...with Stockton... ...sì... ...com'era... ...com'era prevedibile... ...entrambi i team hanno... ...decisso di... ...di optare... ...per una B lane... ...no? ...o magari Derde... ...con il suo Titan... ...che sta girando davvero tanto... ...ha fatto su e giù... ...un paio di volte... ...in questi primi 3 minuti... ...e... ...sicuramente... ...pisce più ciano... ...estanno facendo una... ...una B lane... ...assolutamente... ...e intanto... ...Seven... ...ha avuto un pochino... ...di problemi... ...Bot... ...con il Silencer... ...che... ...conosciamo benissimo... ...la sua capacità di noob... ...ha fatto davvero... ...tanti danni nirli... ...quindi... ...adesso... ...deve giocare... ...un po' più difensivo... ...perchè... ...a metà del suo HP pool... ...ha solo 300 HP... ...basta una piccola rotation... ...da parte di Zenigata... ...che... ...proprio sta facendo questa cosa... ...a questo momento... ...però grazie alla software... ...riesce tranquillamente... ...a beccare... ...ehm... ...sì... ...cosa ne pensi... ...cosa ne pensi... ...di questa... ...di questa build del Silencer... ...e lasciar perdere... ...l'orb... ...fino a livello... ...7-8 a questo punto... ...probabilmente anche 9... ...ehm... ...solitamente si tende a prenderne... ...un solo punto di... ...Glaives of Winsome... ...di... ...del suo orb attack... ...eh... ...perché sappiamo benissimo... ...che il Silencer... ...ha bisogno di qualche item in più... ...per spammare danni... ...con la seconda spell... ...quindi... ...credo che sia assolutamente giusta... ...la scelta di maxare i nuke... ...e entrambe le spell... ...che fanno danni... ...per quanto riguarda il Silencer... ...poi magari... ...in seguito... ...quando sarà farmato... ...e avrà... ...un po' di attack speed... ...e parecchia intellect... ...potrà... ...tranquillamente spammare... ...anche la sua seconda spell... ...il suo orb attack... ...e intanto... ...a proposito di farm... ...possiamo anche dare un'occhiata... ...alla classifica dei last hit... ...che per adesso... ...è direi decisamente... ...dominata da parte... ...del team Easy Fix... ...il Silencer è... ...a un... ...inarrivabile 27 last hit... ...seguito dalla... ...Dead Prophet a 22... ...e la... ...il primo eroe... ...de in X Gaming... ...a comparire... ...è la PA mid... ...con 17 last hit... ...ed è... ...praticamente in pari... ...con lo Sven... ...quindi direi che... ...anche guardando il grafico... ...siamo già a mille gold... ...di vantaggio per Easy Fix... ...nonostante non sia stata... ...nessuna torre... ...e nessuna kill... ...sì... ...sì... ...assolutamente sì... ...quil Venomancer... ...in top lane... ...abbiamo perso... ...il first blood... ...è stato... ...il... ...Necrophos... ...il primo a cadere... ...non c'è stata nessuna rotazione... ...quindi era semplicemente... ...uno scontro... ...due contro due... ...tranzi... ...tre contro due probabilmente... ...davvero... ...buona azione da parte di Easy Fix... ...strano... ...molto strano... ...che... ...un eroe molto tanky... ...con tanta... ...capire Gen... ...con la sua cura... ...come il Necrophos... ...e soprattutto con entrambi i support... ...alle sue spalle... ...è riuscito a morire... ...da... ...una... ...coppia di hero... ...no... ...da uno Sven... ...più un Witch Doctor... ...che poi Witch Doctor... ...sappiamo benissimo... ...ha uno stun... ...non proprio preciso... ...no... ...magari forse... ...Ciano è riuscito a... ...ad incastrare molto bene... ...qualche rimbalzo... ...del suo cask... ...con... ...non so... ...perché non l'ho seguita questa azione... ...però stavo cercando una spiegazione... ...sì c'è anche azione mid... ...nel frattempo... ...vediamo se Levi Ackerman... ...aiutato da Chromatix... ...arriva lo Stomp... ...arriva lo Slow... ...e possono continuare l'insegnamento sull'outzu... ...bellissimo... ...bellissima rotazione da parte di Crochetta... ...e credo che a questo punto... ...l'outzu si... ...cada... ...siamo uno per uno... ...de Next Game... ...bellissima rotazione... ...per proteggere la Phantom Assassin's Mid... ...sì molto bene... ...molto bene... ...Giga stava aggredendo... ...giustamente force del vantaggio mid... ...stava aggredendo quella... ...quella PA... ...c'è stato l'istantaneo ATP... ...da parte dei support... ...che hanno capovolto la situazione... ...Bot anche... ...e caduto il Venomaster... ...e nel frattempo... ...anche Top... ...e azione continua in questa partita... ...e caduto... ...anche il Necrophos... ...dai un'occhiata al Fighter Cup... ...conta solo per adesso... ...la kill del Necrophos... ...tre uccisioni... ...a una sola... ...de Next Game... ...rotazione in tutta la mappa... ...e direi che... ...sta andando decisamente bene... ...per il Team Musifix... ...sì... ...stanno... ...stanno andando molto bene... ...Botlane... ...il Venomancer non ha nulla... ...ha solo 10 last hit... ...e ancora a livello 5... ...attenzione... ...intanto... ...Seven aggredisce... ...il Silencer... ...di Art... ...che però... ...non... 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 ...arriva Zenigata... ...ma non ha... ...non ha il mana per lanciare lo stun... ...incora per due secondi... ...uno... ...vediamo se deciderà il diveare... ...arriva lo stun... ...e vediamo un altro... ...auto attack... ...non è abbastanza... ...l'inseguimento prosegue... ...forse Zenigata... ...un po' troppo esagerato... ...e infatti Royal Blood riesce... ...a guadagnare... ...il Last Hit... ...sì... ... riesce a guadagnare il Last Hit... ...sul... ...sul... ...Logre Magi... ...e si è spinto un po' oltre... ...eh... ...sicuramente... ...sappiamo che Logre Magi è un eroe... ...molto resistente... ...però... ...diveare così tanto... ...addirittura... ...all'altezza di una T2... ...al minuto 7... ...forse non è l'ideale... ...c'è ancora azione... ...comunque nella top lane... ...è arrivato Zenigata... ...vediamo se deciderà... ...di utilizzare lo stun... ...su Crocchetta invece... ...ha deciso di conservare il mare... ...forse questo porterà... ...al... ...salvataggio... ...del Jakiro... ...no... ...riesce ad allontanarsi... ...senza problemi... ...quattro a due... ...il... ...il punteggio... ...siamo a... ...quasi 3000 gold... ...di vantaggio per l'EGX... ...inizia a farsi sentire questo vantaggio... ...il Silencer sta farmando come un treno... ...ha ben 51 last... ...al minuto 8... ...che sono un'infinità... ...la... ...la DP anche... ...ha 48 last hit... ...al minuto 8... ...mentre per quanto riguarda... ...i Next Gaming... ...abbiamo la... ...il Necrophos ha soli 25 last hit... ...e con ben due morti... ...alle spalle... ...eh... ...poi abbiamo invece... ...le Heavy Mid... ...che ha già perso la sua torre... ...ed ha solo 24... ...25 last hit... ...sono un po' dietro... ...sono un po' dietro... ...a livello di farm... ...eh... ...stanno pagando... ...le B-lane... ...de Easy Fix... ...cosa ne pensi? ...stanno dando i loro frutti? Sì... ...sono state... ...a più che altro... ...delle ottime rotazioni... ...da parte di Easy Fix... ...hanno deciso di... ...lasciar perdere... ...l'idea della 3 lane... ...iniziata in... ...top lane... ...e quindi... ...hanno avuto la possibilità... ...soprattutto Zenigata... ...ha partecipato... ...sembra... ...in una sola kill... ...dice il punteggio... ...ma in realtà... ...ha continuato a muoversi... ...e anche... ...attraverso i suoi pool... ...attraverso il suo posizionamento... ...nonostante... ...il dive esagerato... ...è stato un buon... ...un buon aiuto... ...a tutto il suo team... ...ma comunque... ...direi che hanno vinto... ...due e tre le lane... ...e gli è nato... ...decisamente bene... ...almeno... ...la torre mid... ...sì... ...la torre mid era stata... ...denaiata da parte... ...dei Next Gaming... ...quindi hanno un po' ridotto... ...lo snowball per il team avversario... ...e probabilmente appena questo... ...no è vero Mancer... ...comincerà un po' a... ...incranare la sua marcia... ...e a cominciare a tirare giù Tori... ...col Jackiro... ...direi che... ...comincerà ad essersi un po' la possibilità... ...per ritornare in partita... ...per... ...in Next Gaming... ...vediamo forse adesso... ...sarà uno scontro in top lane... ...lo smoke è terminato... ...Mickey è il bersaglio di pesce... ...pesce che è diventato rosso... ...continando il seguimento... ...è arrivato anche il Global Silence... ...per impedire qualsiasi azione difensiva... ...da parte Next Gaming... ...arriva la Death World... ...arriva lo stun... ...e con l'aiuto... ...della sua Ultimate... ...pesce ha fatto... ...davvero davvero macelli... ...anche se la Kill in Spree è andata a Chano... ...con Luis Doctor... ...e pesce si trova in una bruttissima situazione... ...e... ...è bastato un critico da parte di Ackerman... ...per... ...guadagnare... ...una kill di risposta... ...c'è anche azione comunque nella bottom lane... ...la Hozu ha la possibilità di utilizzare un Silence... ...ma non è abbastanza... ...è rimasto a 64 punti vita... ...continua l'inseguimento... ...magari no... ...ha deciso di lasciar perdere... ...per non ripetere quello che era successo poco fa... ...eccezione anche nella top lane... ...comunque nel frattempo... ...è morto Luis Doctor... ...è morto Chano... ...e continua l'inseguimento anche su Zeni Gata... ...i danni di questo Elder Titan sono enormi... ...aveva quasi... ...più di una doppia danni... ...grazie ai danni che gli aveva dato lo spirito... ...e con questo... ...siamo arrivati a 6-5... ...next Gaming stanno rispondendo davvero davvero bene... ...all'aggressione... ...in early game degli ZFX... ...sì assolutamente sì... ...è un game molto combattuto... ...ci sono capovolgimenti di fronte... ...da una parte e dall'altra... ...non finiamo mai di cambiare la prospettiva no... ...c'è un attimo in azione bot... ...poi andiamo top... ...bot top bot... ...ci stanno facendo divertire i due team... ...e come hai detto bene... ...e a proposito di bot... ...hai fatto bene a dirlo... ...perché probabilmente... ...eh sì... ...c'è stata ancora un'altra kill... ...e pareggiano il numero di kill... ...sì si stanno comportando veramente bene i Next Gaming... ...nel senso che... ...magari 5 minuti fa... ...6 minuti fa... ...sebrava che ci fosse un dominio... ...per quanto riguarda i Easy Fix... ...e adesso invece ci si sono ripresi alla grande... ...i Next Gaming... ...c'è stato... ...quel... ...quel tp top da parte di... ...se non ricordo male... ...di Necrophos... ...che ha beccato Ciano un pochino gli avanti... ...la rotation da parte della... ...della Phantom Assassin top... ...che ha ucciso prima... ...Pesce con lo Sven... ...e poi... ...è riuscita a rallentare abbastanza Ciano... ...per buttarlo giù... ...quindi molto molto bene per i Next Gaming... ...intanto c'è il continuo Aras... ...del Silencer... ...questa volta sto abbastanza per uccidere... ...completamente il Venomancer... ...c'è anche Attone probabilmente in top lane... ...arriva la casca da parte di Ciano... ...ma i ribalzi non sono favorevoli... ...il... ...sta arrivando anche Lao Tzu... ...non ha ancora l'Eul... ...li devo ancora arrivare con Curio... ...quindi non può fermare l'ingaggio di Miki... ...sarebbe la possibilità di utilizzare uno stun... ...il martello da parte di Pish... ...ma lo Stomp è arrivato perfettamente... ...e li ha costretti ad aspettare qualche secondo... ...ancora un casca che non rimbalza bene... ...è arrivata anche la PA... ...la PA che ha ingaggiato Ciano... ...Ciano è stato completamente disintegrato... ...Earth Splitter da parte dell'Elder Titan... ...che è morto... ...ma ha aiutato i propri alleati... ...doppio TP di risposta... ...da parte dei Next Gaming... ...e continua l'inseguimento... ...arriva il Gale del Venomancer... ...e probabilmente Lao Tzu... ...finirà per... ...pagare questa aggressione... ...anche se è arrivato Zenigat... ...e ancora un altro bellissimo Ice Path... ...da parte di Croquetta... ...Zenigat ha risposto... ...uccidendo... ...Levy Ackerman... ...con la Phantom Assassin... ...siamo a due kill per una... ...ma probabilmente diventeranno anche tre... ...Killing Spree per Miki... ...nonostante... ...L'early Game... ...molto molto difficoltoso... ...e una sola morte per i Next Gaming... ...è stata la Phantom Assassin... ...ma direi comunque... ...bellissima azione... ...a parte dei Next Gaming... ...sì molto bene... ...molto bene per i Next Gaming... ...molto bene... ...il fatto che Miki... ...sta prendendo i kill... ...infatti adesso... ...ha recuperato... ...molto del farm perso in Early Game... ...come hai ben detto tu... ...credo che stia... ...sì stia chiudendo un Fast Haga... ...sta già richiamando la Ogri Club... ...e la Staff Wizardly... ...quindi va bene... ...desso diamo un'occhiata... ...al valore netto... ...ecco infatti vediamo che Miki... ...ha recuperato... ...addirittura... ...solo 50 Gold... ...dal Silencer... ...che in Early Game... ...stava andando come un treno... ...non aveva missato un Last Deep... ...aveva formato benissimo... ...con questi ultimi Team Fight... ...con questi ultimi kill... ...presi da parte di Miki... ...c'è stata la rimonta... ...la rimonta del Necrophos... ...che adesso è alla pari con il Silencer... ...data azione bot... ...azione bot... ...Ice Path questa volta manca completamente... ...ma la Phantom Assassin... ...è riuscita ad allontanarsi... ...Death Ward bellissima... ...colpisce di continuo... ...e Crocchetta... ...è l'unico cadere... ...ma forse vediamo se ci sarà... ...il controingazzo da parte di Next Gaming... ...arriva il pugnale... ...arriva anche Miki... ...ha a disposizione il Reaper Sight... ...decide di utilizzarlo... ...immediatamente... ...non è abbastanza... ...Earth Spitter è arrivato nel frattempo... ...ma non ha colpito i bersagli di scelta... ...Zenigata è l'unico caduto... ...ci azione da tutte le parti... ...siamo probabilmente a 3 kill... ...vediamo se Chromatix... ...no... ...l'ultimo attacco da parte di Last 2... ...e con questo Eul che è arrivato... ...l'ultimate non è a disposizione... ...vediamo se decideranno di continuare l'azione... ...e con questo... ...ultimo attacco del Silencer... ...siamo a 3 morti... ...per una sola... ...buona azione... ...una che ancora una volta ha fatto la differenza... ...a questo doppio danno sull'out 2... ...sì, fa tanti danni... ...la DP è un hero che ha già... ...un discreto auto-attack di base... ...poi ovviamente con una... ...con una double damage... ...sommati alla sua... ...la sua grande movement speed... ...è un eroe che riesce... ...oltre che a rassarti con le spell... ...anche con i suoi auto-attack... ...intanto ottimo Ice Path... ...da parte di Crocchetta... ...che isola... ...che isola Giga... ...però non ci sarà un... ...non ci sarà niente, credo... ...in questo game... ...sì, l'azione sembra essersi fermata... ...vediamo se invece no... ...a quanto pare i next aiming... ...vogliono contrastarmi... ...ancora un altro bellissimo Ice Path... ...da parte di Crocchetta Arte... ...continuato a... ...continua l'inseguimento... ...il liquid fire... ...lo fa scendere... ...un po' più in basso... ...ma non è abbastanza... ...e probabilmente... ...l'ingaggio finirà... ...Lady Ackerman... ...in una bruttissima posizione... ...oltre le linee nemiche... ...ha 44 punti vita... ...no, non è abbastata... ...non è riuscito a blinkare lontano... ...forse anche Chromatix... ...finirà per... ...seguire... ...lo stesso fatto... ...ancora 5 secondi... ...allo stompe... ...infatti non c'è niente da fare... ...Killing Spree... ...perciano... ...addirittura... ...625... ...questa Witch Daughter... ...e sta facendo davvero tanti kill... ...e intanto... ...a Zenigata sta andando molto bene... ...con i multicast... ...ho seguito un paio di azioni sue... ...e ci sono state almeno due... ...se non tre multicast... ...da parte delle logre magiche... ...fa davvero male... ...in questo momento del game... ...un multicast per due in bocca... ...fa male... ...sono 240 per due... ...si sentono tutti come danni... ...ehm... ...benissimo... ...Venomancer... ...stavo... ...diamo un'occhiata un pochino agli... ...agli item... ...di vari hero sulla mappa... ...Venomancer è vicinissimo al suo megasm... ...quindi vuole continuare la strat del push... ...con le sue ward... ...Mid ce ne sono davvero tantissime... ...quella torre probabilmente andrà giù... ...a meno che di grosse rotation... ...ehm... ...poi... ...la... ...la Phantom Assassin è vicina alla sua BKB... ...mancano solo... ...circa 1000 gold... ...per chiudere la BKB... ...e... ...e niente... ...poi i support hanno un pochino gli oggetti stanzi... ...tanto ingaggio mid da parte di Giga... ...ingaggio mid... ...arriva anche il Global Silence... ...per fermare... ...la risposta... ...da parte dei Next Game... ...ma non c'è stato niente di fatto... ...anzi... ...Miki entra in mezzo al teamfight... ...ancora un altro multicast... ...da parte di Zenigata... ...ne sta avendo... ...davvero davvero una quantità enorme... ...ma credo che a questo punto... ...l'azione si fermi... ...doppia ultimate utilizzata però... ...da Easy Fix senza nulla di fatto... ...Global Silence... ...e Exorcism... ...sono in cooldown... ...per quasi due minuti entrambi... ...quindi... ...potrebbero approfittarne... ...i Next Gaming... ...e cercare di combinare... ...qualcosa in... ...questo periodo... ...dici a proposito dell'item... ...Sven ha deciso di andare... ...per una... ...Blink Dagger... ...quindi... ...un po' più... ...un item più aggressivo da Mid Game... ...e... ...non proprio da Kenry Late Game... ...pensi che... ...varrà la pena... ...andando verso il Late Game? Sì, è giusta la scelta... ...dato che... ...hanno il Silencer in posizione 1... ...in posizione di Farm... ...quindi assolutamente quello Sven... ...deve sfruttare... ...più le sue spell... ...e... ...le sue abilità... ...rispetto ai danni... ...quindi il Blink Dagger è un item perfetto... ...per'ingaggiare... ...è una scelta... ...che ha po'... ...completamente... ...per quanto riguarda lo Sven... ...e invece per quanto riguarda... ...Micky col Necro... ...fosse ogni tanto... ...no si builda... ...la Blink Dagger... ...anche sul Necro... ...e invece... ...in questo caso è andato direttamente... ...per un Necro... ...e vediamo ancora... ...ingaggio su doppio critico... ...sull'out 2... ...e Micky appunto... ...mancando la Blink Dagger... ...fa davvero fatica... ...a continuare in seguimento... ...arriva un altro pugnale... ...ma Dead Prophet è troppo veloce... ...anche col pugnale... ...con la riduzione di velocità di movimento... ...andava... ...quasi come un eroe normale... ...senza... ...è a 443 di velocità di movimento... ...con... ...senza i face attivi... ...con i face attivi... ...503... ...è quasi massimizzata... ...e quindi... ...non c'è alcuna speranza... ...e si... ...in seguimento... ...vediamoci magari... ...un paio di... ...critici fortunati... ...ma arriva anche Ciano... ...Deathworth... ...e... ...la via Ackman... ...l'evasione... ...sta avendo... ...davvero... ...davvero... ...quanto è successo... ...arriva anche Zenigata... ...Bloodlast... ...sue due giocatori... ...crocchetta il primo a cadere... ...nonostante la cura di Miki... ...ma è arrivato lo stomp... ...e vediamo se Levi Ackerman... ...continerà a inseguire... ...c'è stato un critico... ...Silence... ...che però ha bloccato... ...completamente Miki... ...Global Silence... ...appena finito il cooldown... ...probabilmente... ...fra poco sarà anche l'Exorcist... ...cinque secondi... ...è caduto Levi Ackerman... ...avrebbe un... ...byback a disposizione... ...ma non... ...ne farà uso... ...vontaggiato... ...Glisi Fix... ...anche se... ...forse ci sarà una... ...no... ...deny da parte di Ciano... ...sulla Torna Mid... ...eh sì... ...appelo... ...Ciano è riuscito a farsi appelo... ...per quel deny... ...Top credo ci sia stato... ...un bait da parte di Giga... ...no... ...che la prima volta... ...magari era stato preso... ...un pochino... ...un pochino fuori posizione... ...però grazie al suo... ...grandissimo... ...alla sua grandissima mobility... ...al suo grandissimo... ...woman speed... ...è riuscito ad andare via... ...poi dopo è rimasto... ...nuovamente in lì in quella posizione... ...sapendo... ...che i suoi support erano dietro di lui... ...e infatti il bait è andato a buon fine... ...perché... ...gli Easy Fix hanno avuto... ...una grandissima vittoria... ...lì nella top lane... ...e siamo alla terza torre... ...nel frattempo per l'Easy Fix... ...contro... ...una sola... ...due sole anzi... ...per il next game... ...quindi... ...siamo relativamente in parità... ...da quel punto di vista... ...BKB ancora a 300 gold di distanza... ...per Levi Ackerman... ...sul silencer... ...sta lavorando direi a un refresher... ...è ancora piuttosto distante... ...a meno che non ci sia... ...qualche item... ...nel... ...nel curer... ...se riesco a trovarlo... ...no non c'è alcun item nel curer... ...quindi... ...gli manca ancora tanto... ...quando dovesse arrivare a quel... ...quel refresher sarà davvero davvero dura per... ...in next game... ...abbiamo il meccanismo completato... ...come dicevi sul Venomance... ...per il resto dei giocatori... ...la Blink Dagger... ...e sta cominciando a lavorare una BKB... ...Sven... ...e ho visto un Vitality Booster nel curer... ...probabilmente sarà della... ...Dead Prophet... ...sì, infatti... ...sì, sì... ...li manca... ...in realtà sì... ...ha la recipe della... ...interessante... ...non mi piace tanto la Blood Zone... ...sulla... ...sulla Death Prophet... ...se devo essere sincero... ...sì... ...onestamente... ...anche io non... ...non vado matto per questo... ...per questo item... ...a quel punto forse è meglio addirittura... ...Nert of the Rask... ...no? ...perché... ...comunque... ...con... ...già con l'Eul... ...la Death Prophet... ...non è un eroe che... ...necessita di... ...tutto questo mana... ...quindi non soffre tanto... ...la mancanza del mana... ...eh... ...magari una Shiva... ...che è un item... ...anche molto molto forte... ...sulla Death Prophet... ...però... ...se l'ha scelto Giga... ...siamo sicuri che... ...è la scelta giusta... ...no? ...è un hero di... ...eh sì... ...Giga è un player... ...di grossa grossa esperienza... ...quindi... ...sicuramente è voluta... ...questa cosa è calcolata... ...sta litigando... ...con il fratello... ...a quanto pare... ...vediamo se... ...li sta rubando... ...tutta la... ...la banda... ...a quanto pare... ...bella world nel frattempo... ...messa... ...durante l'ingaggio precedente... ...in Easy Fix... ...hanno bellissima visione... ...su tutta la zona... ...di giungla... ...che di solito... ...farmeranno... ...i Next Gaming... ...in futuro... ...quanto pare... ...il maddamento... ...è finito... ...eh ragazzi... ...si manda... ...si manda... ...questo gioco... ...fa mandare davvero tanto... ...sì... ...in tutto questo... ...comunque no... ...guardando anche la classifica... ...dell network... ...un po' quello che fa la differenza... ...oltre a quella... ...Dead Prophet... ...che è assolutamente... ...inarrivabile come network... ...sono anche un po' i due support... ...Zakiro è a 2000 gold... ...Elder Titan... ...a quasi 3000... ...ma... ...nel team avversario... ...L'Ugrir è a 3000 3... ...e il Witch Doctor addirittura... ...5200 gold... ...ha chiuso gli arcane... ...ha chiuso il meccanismo... ...e ha anche un urna... ...davvero davvero farmato... ...questo Witch Doctor... ...eh sì... ...ha fatto davvero... ...tissimi kill... ...ha partecipato... ...anche a tantissimi kill... ...ha ben... ...e ben 727... ...eh... ...si fanno sentire... ...sia questi kill... ...che questi assist... ...da parte... ...di Ciano... ...che come ben detto tu... ...è... ...molto molto farmato... ...ha mana boots... ...ha tutti item... ...per la rigenerazione... ...degli alleati... ...no... ...quindi vuole puntare... ...ad una... ...ad una pressione... ...a tenere sempre sotto pressione... ...i next game... ...a non far andare mai in base... ...ma in fontana... ...i propri alleati... ...quindi vuole tenere up... ...la linea delle... ...delle creep... ...vuole tenerle molto up... ...queste creep... ...vole pushare molto fast... ...perché sa benissimo... ...che in una situazione di... ...ultra late game... ...la DP fa... ...fa tanti danni... ...no... ...la DP fa tanti danni... ...è molto pericolosa... ...quindi... ...poi ovviamente hanno anche un Necrophos... ...dalla loro parte in next gaming... ...e... ...potrebbero diventare pericolosi in late game... ...quindi... ...meglio pushare molto molto fast... ...e portare a casa il primo game... ...in sicurezza... ...che ne pensi... ...quale... ...in una situazione di late game... ...quale dei due team potrebbe avere vantaggio? ...e' difficile dire... ...perché lo Sven... ...quando arriverà... ...probmente ha una... ...ha una sua Daedalus... ...ha qualcosa di questo tipo... ...avrà davvero un auto di danni... ...e intanto... ...a proposito dello Sven... ...si parlava di lui... ...ha guadagnato... ...bella... ...doppio danno... ...una bella runa... ...grazie alla sua Blink... ...ha fatto piazza pulita... ...in pochissimi secondi... ...la Dark Titan... ...tre colpi... ...non ne avevano dovuto usare la sua Ultimate... ...sì... ...ma... ...uno Sven si riesce a utilizzare... ...a chiudere un Daedalus... ...BKB... ...magari qualche item... ...per restare durante il teamfight... ...un po' aumentare la sua... ...velocità di attacco... ...è in grado di fare... ...cura su Ultimate... ...danni davvero davvero spaventosi... ...anche contro eroi come l'APA... ...che nonostante la sua evasione... ...fa davvero fatica... ...se nell'altro team... ...i danni... ...non mancano... ...e quindi... ...non so... ...sarà difficile valutare l'Eating... ...comunque come dicevi giustamente anche tu... ...la Death Prophet... ...raggiunge un po' un picco... ...quando raggiunge... ...l'Exorcism a livello 3... ...magari attorno... ...ai 25-30 minuti... ...fino anche ai 35-40 minuti... ...assolutamente... ...al picco della sua... ...capacità... ...ma nel frattempo c'è un... ...ingaggio tra entrambi i team... ...a quanto pare però... ...un ingaggio completamente vinto... ...dall'Easy Fix... ...è stato utilizzato all'Ultimate da pesce... ...ne approfitterà per pushare un attimino qualsiasi torre... ...e il nostro Statsman... ...ci ricorda che la Bloodstone è stata realizzata... ...129 volte... ...solamente su 835 partite... ...e ha un winrate del 66%... ...in questi casi... ...sì in effetti... ...129 su 835... ...non è una quantità... ...particolamente elevata... ...e stanno come dicevo... ...stanno portando tanta pressione... ...i Next Gaming... ...stanno sfruttando appieno... ...quella forza della Death Prophet... ...che è strafarmata... ...stanno sfruttando... ...il Global Silence del Silencer... ...e quindi sì... ...molto bene... ...stanno completamente schiacciando... ...i Next Gaming... ...nella loro mappa... ...nella loro metà... ...della mappa... ...e intanto... ...Niki un po' isolato... ...lì... ...nella middle lane... ...poi isolato... ...e stanno arrivando... ...stanno arrivando anche le EUL... ...stanno arrivando tutti i danni... ...quindi direi che per lui... ...non c'è niente da fare... ...vediamo se ne arrivano i rinforzi... ...Ice Pass... ...manca completamente... ...Levi Ackerman... ...bloccato... ...Castia che sta ribaltando... ...davvero davvero bene... ...ribatti fortunati... ...perciano... ...continua l'inseguimento... ...e ci avvisa anche Lina... ...il nostro annunciatore... ...che abbiamo due eroi... ...dominating... ...nel team degli Easy Fix... ...ed è assolutamente... ...l'andamento di questa partita... ...non c'è quasi niente da fare... ...vediamo se questo Ignite sarà abbastanza... ...sì... ...assolutamente assolutamente... ...sieme alla Curse... ...sarà abbastanza... ...per portare una... ...doppia kill... ...al Silencer... ...e con questo... ...sfortunatamente per l'Easy Fix... ...hanno ancora... ...diverse ultimate in cooldown... ...quindi... ...non so se sarà il caso... ...di decidere di... ...pusciare verso... ...la T3... ...e infatti decidono di... ...ritirarsi un attimino... ...di raccogliersi... ...di guadagnare un po' di più di HP... ...e intanto parlavamo del Reflesher... ...sul Silencer... ...e sembrava... ...non tanto tempo fa... ...così così tanto distante... ...invece gli mancano... ...solo poco più di 1000 gold... ...per completarlo... ...a meno che... ...no infatti... ...non c'è la ReSip... ...per un attimo pensato... ...quello sarà... ...il Big Item... ...quello sarà il Big Item... ...intanto abbiamo entrambe le Ulti Up... ...sia di DP... ...che di... ...che di Silencer... ...quindi se adesso... ...dovessero a decidere di pushare High Ground... ...ci riusciranno molto molto facilmente... ...con l'Exorcismo... ...livello 3 appena appena presa... ...della Death Prophet... ...con la doppia Ulti del Silencer... ...che... ...ha anch'esso per fare il livello 16... ...quindi hanno circa 12 secondi... ...di Disable sui Next Gaming... ...piu un Ultimate... ...che conosciamo benissimo... ...quale Exorcismo... ...fa davvero tanti danni... ...sulle strutture... ...quindi a breve... ...appena arriva la pressure sul Silencer... ...vedremo cadere sicuramente... ...un set di Rax... ...per quanto riguarda i Next Gaming... ...li vedo male... ...li vedo male i Next Gaming... ...sono un po' alle corde... ...in questo momento della partita... ...cosa pensi... ...che sia andato male... ...per i Next Gaming... ...in questa... ...in questi primi... ...20-25 minuti di partita... ...erano svantaggiati... ...erano svantaggiati direttamente... ...in fase di draft... ...con il loro picco... ...forse hanno avuto una... ...esecuzione un po' traballante... ...allora... ...diciamo che... ...nella top in... ...secondo me... ...erano più solidi... ...in Next Gaming... ...avevano una line-up... ...un po' più solida... ...Miki... ...probabilmente si è fatto trovare... ...un paio di volte... ...troppo avanti... ...troppo aggressivo... ...e... ...Ciano e... ...e pesce... ...se lo sono mangiato... ...con facilità... ...forse un po' questo è stato... ...l'errore per quanto riguarda... ...la top lane... ...no... ...concedere quei kill... ...di vantaggio a una B lane... ...che ha snobbollato... ...ha fatto tanti livelli... ...Ciano ha preso tanti kill... ...e quindi sono riusciti... ...tranquillamente a recuperare... ...e ad andare in vantaggio... ...in quella dimensione... ...in quella direzione... ...della... ...della mappa... ...bottom lane invece... ...eh... ...il Venomancer ha fatto molta fatica... ...contro il Silencer... ...in early game... ...eh... ...non riusciva a farmare... ...non riusciva a prendere la stit... ...non riusciva a prendere livelli... ...e mentre il Silencer... ...andava alla grande... ...ha preso quasi tutti la stit... ...era se non ricordo male... ...circa 68 la stit... ...in 10 minuti... ...che sono veramente tanti... ...quindi... ...sono mancate un po' le lane... ...è mancata un po' la stabilità... ...nele lane... ...mid la... ...la T... ...la PA... ...giustamente... ...non può far tanto... ...contro una DP... ...e quindi è stata persa anche quella... ...hanno perso tutte le lane... ...c'era stato un momento però... ...di comeback... ...avevo elogiato... ...i Next Gaming... ...per il loro... ...la loro gestione dei TP... ...delle rotation... ...ma sembrava che avessero recuperato... ...e invece... ...la forza e l'aggressività di questo team... ...costruito da Easy Fick... ...se si sta facendo sentire... ...decisamente... ...probamente adesso... ...si stanno tutti raggruppando... ...verso la T2 top... ...quindi sarà... ...un tentativo di push... ...che credo che... ...in X-Aline... ...infatti... ...non sembra abbiano intenzione di... ...di contrastare... ...la PA... ...sta continuando a farmare in botto lane... ...ha comprato qualche item... ...forse nel Courier... ...ah eccolo... ...ha appena arrivato... ...è stato un Bash... ...Basher la decisione di... ...Levi Ackerman... ...e vediamo se... ...ne approfitterà anche... ...della presenza del team... ...degli Easy Fick... ...in top lane... ...per pushare... ...guadagnare un po' di gold... ...anche da questo punto di vista... ...vediamo comunque i ping... ...degli Easy Fick... ...sono tutti indirizzati... ...verso il primo set di Rax... ...di questa partita... ...arriva l'Exorcism... ...c'è anche una Shivas... ...a disposizione... ...della Death Prophet... ...Blink molto aggressivo... ...da parte di Pesce... ...per bloccare... ...gli eroi avversari... ...arriva il McApire... ...arriva... ...che... ...Lice Buffman... ...non c'è niente da fare... ...arriva il Global Silence... ...e questa è l'indicazione... ...dell'inizio... ...della fine... ...per quanto riguarda i next game... ...Pesce... ...ha utilizzato la sua ultimate... ...va in uno contro uno... ...contro Larry Ackerman... ...l'evasione... ...sta facendo miracoli per lui... ...e riesce a guadagnare... ...una kill sul pesce... ...arriva anche il secondo Global Silence... ...il Refresh... ...e con questo... ...unstoppable... ...per il Silencer... ...michicade... ...e... ...big buyback... ...utilizzato da due eroi... ...Jakiro... ...e il Necrofoss... ...e ritorno in azione... ...il primo a cadere... ...il secondo a cadere... ...anzi... ...è stato il Silencer... ...e forse... ...sarà una... ...buona difesa... ...da parte di Next Gaming... ...per questo push... ...Turf Kill... ...il Witch Doctor... ...è costato doppio buyback... ...questa difesa... ...ma almeno... ...le Rax sono ancora in piedi... ...e hanno costretto... ...di fixa la ritirata... ...sì... ...molto bene... ...credito forse... ...la scelta di Giga... ...di rimanere con il suo exorcismo... ...sulle due Rax... ...non ha portato... ...grani risultati... ...mentre il suo team... ...era oltre le Rax... ...a diveare... ...a fightare contro Next Gaming... ...Giga era... ...li alle Rax... ...a pushare con il suo exorcismo... ...credito che magari... ...poteva essere investito meglio... ...quegli ultimi secondi di exorcismo... ...potevano essere investiti meglio... ...fightando... ...magari stando lì... ...a fightare insieme ai suoi... ...teammates... ...comunque molto bene per i Next Gaming... ...che avevano una situazione... ...molto molto difficile da gestire... ...e sono riusciti a... ...a uscirne fuori alla grande... ...molto bene per i Next Gaming... ...sì anche se... ...tanto Zenigata è un po' isolato lì su... ...vediamo... ...Zenigata è un po'... ...dirittura tippa... ...e sì era appena al di fuori... ...a un centimetro da verde... ...era appena al di fuori... ...della visione notturna... ...delle R-Time... ...comunque dicevo... ...nonostante questa buona difesa... ...si vede quanto siano costati i Bayback... ...perché il grafico dei gold... ...non si è mosso di una virgola ancora... ...all'incirca sono dovrebbero essere sui... ...18-19000 gold... ...di vantaggio... ...per... ...i... ...li Z-Fix... ...non è ancora stato fatto la scia... ...e cosa ne pensi un po' anche di questa build... ...suciano che ha deciso di utilizzare tutto il suo... ...il suo grandissimo fano che è riuscito a guadagnare in questa partita... ...per fare... ...un Eul, un Mecha e un Arcani Urna... ...forse... ...ma magari cercare di fare un Aghanim... ...sul Witch Doctor... ...sarebbe valse la pena o... ...o no? Sì, credo di sì... ...hanno già l'Eul sulla Death Prophet... ...forse la scelta dell'Eul... ...per quanto riguarda il Witch Doctor... ...non è delle migliori... ...sicuramente poteva investire meglio quei... ...2700 gold... ...Ciano... ...sicuramente era... ...sarebbe stato molto vicino a chiudere... ...L'Aganim... ...che è l'oggetto definitivo per... ...per il Witch Doctor... ...tanto questo... ...Roshan va giù con una facilità incredibile... ...una facilità estrema... ...l'hanno assolutamente smeltato... ...come fosse un Ligotto... ...è anche stato un immediato smoke... ...ma sfortunatamente... ...erano proprio sotto la visione di... ...questa world... ...quindi giustamente i next gaming... ...sono andati tutti in ritirata... ...anche se... ...forse Mickey non ha ricevuto il memo... ...da parte dei suoi alleati... ...perché è rimasto... ...assolutamente in una bruttissima posizione... ...è costretto a utilizzare la sua BKB... ...è ancora la BKB dei... ...10 secondi... ...quindi ne farà buon uso... ...probabilmente... ...c'è una runa dell'invisibilità... ...però da pesce... ...è in mezzo all'azione... ...Global Silence... ...c'è il refresh alla disposizione... ...Evian si diceva a utilizzarlo immediatamente... ...Mickey è il primo a cadere... ...God Strength ancora in cooldown... ...ma non ce n'è bisogno per pesce... ...e continua l'insegnamento... ...ecco il secondo Global Silence... ...e arriva anche il Fire Blast... ...sul Venomancer... ...e un altro colpo di martello... ...e un paio di hit... ...ed è tutto finito... ...unstoppable... ...per la Death Prophet... ...nel frattempo... ...ha guadagnato... ...una solo kill... ...sul Levi Ackerman... ...Eul ancora una volta... ...e con questo... ...è quasi un completo... ...team wipe... ...è rimasto in piedi... ...solo l'Helder Titan... ...ce il Bayback... ...solo su Levi Ackerman... ...e quindi... ...non credo che... ...no l'Helder Titan... ...aveva utilizzato addirittura il Bayback... ...quindi... ...dovrà fare molta attenzione... ...ma credo che a questo punto... ...almeno... ...due set di Rax... ...cadranno... ...per... ...eh... ...sì... ...la pressione degli Easy Fix... ...continua imperterrida... ...giustamente gli Easy Fix... ...sfruttano tutto il vantaggio che hanno... ...non lasciano un po' di respiro... ...i Next Gaming... ...eh... ...sebra... ...è crudele... ...però è così che si gioca a Dota... ...eh... ...non devi concedere mai un attimo di respiro ai tuoi avversari... ...qualsiasi vantaggio hai... ...devi sfruttarlo appieno... ...eh... ...giusto così... ...a provo appieno... ...eh... ...sì... ...come hai detto bene tu... ...entrambe le Rax andranno giù... ...e credo che... ...la partita si sta mettendo molto male per i Next Gaming... ...non sono riusciti a... ...a trovare il farm che volevano... ...la Net Prophet sta snowballando... ...a circa il doppio del farm... ...della... ...della Phantom Massas in The Next Gaming... ...eh... ...non so... ...non vedo alternativa... ...intanto Miki prova un'azione disperata... ...vediamo se sarà abbastanza... ...c'è però Legis... ...sul... ...Chano nel frattempo... ...è riuscito a channellare un po' della sua ultimate... ...ma non è stato abbastanza... ...è caduto... ...ah... ...ritorna anche Pish... ...ritorna con la sua B capa B... ...è un'azione magari... ...favorevole in Next Gaming... ...ma ormai comincia ad essere un po' tardi nella partita... ...hanno bisogno di almeno altre... ...2-3 azioni di questo tipo... ...per riuscire... ...a guadagnare qualcosa di tangibile... ...decidono di ritirarsi completamente... ...tp da parte di Pish... ...quattro racks cadute... ...la vedo, la vedo davvero davvero difficile per i Next Gaming a questo punto... ...eh sì... ...sono un po' come un pugile alle corde che aspetta l'ultimo colpo... ...il colpo del KO... ...eh sì... ...sono in grossa, grossa difficoltà... ...e addirittura chiamano il GG infatti... ...giustamente... ...non vedevo... ...una soluzione, una possibilità di comeback... ...per quanto riguarda i Next Gaming... ...hier chiamato il GG... ...eh sì... ...un'azione... ...una partita che... ...all'inizio sembrava un po'... ...eh... ...magari giocata in parità... ...le lane erano un po' favorevoli... ...forse ai Next Gaming... ...le avevano giocata abbastanza bene... ...costringendo l'Easy Vix a qualche... ...rotazione ad aggiustare un po' le lane... ...ma poi... ...attorno ai 15-20 minuti... ...hanno lasciato forse troppo spazio questa Death Prophet... ...eh sì... ...la Death Prophet è un hero che snowballa in early game... ...e anche in middle game snowballa troppo... ...e giustamente... ...Giga ha sfruttato qualsiasi opportunità aveva... ...per farmare... ...per pushare... ...per prendere kill... ...quindi... ...ha mangiato tutto quello che poteva... ...Giga e giustamente... ...è diventato gigante... ...sì con 300 lastite 34 minuti con Death Prophet... ...non è... ...non è per niente... ...per niente male... ...in ogni caso questa è una Best of 3... ...quindi ritorneremo... ...a brevissimo con... ...il secondo game di questa serie... ...non mancate... ...a dopo! Grazie! 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 Ciao a tutti e ben ritrovati! Siamo al secondo game di questa Best of 3! Purtroppo c'era stato qualche problema con il network di Dota 2 Era cominciata la lobby col draft Ma siamo stati buttati fuori dai server E quindi abbiamo dovuto riostare in all pick I giocatori erano riusciti, il capitani, a completare il draft E quindi ci ritroviamo al fatto con il fatto Già comunque sono piccanotti gli eroi E possiamo magari introdurlo abbastanza velocemente Come prima con me ci sarà Nirvana Ciao Nir Ciao Chaos, ciao a tutti ragazzi Ecco qua gli eroi, ti piacciono il team blu? Sì, eccoci per il game 2 Il team blu, sì sì, molto molto carino il team blu degli Easy Fix Molto ben assortito Mi fa piacere vedere un pack Che è un eroe che ultimamente vediamo un po' pochino Nella scena del competitivo italiano Per quanto riguarda invece i next gaming Vedo un Lycan, rivedo il Necrophos Poi abbiamo un Centauro offlane sicuramente E la coppia di support Lion e Jakiro Molto bene, molto bene Avremo modo un attimo di vedere come decideranno di disporsi i vari team sulla mappa Giustamente non avendo visto i pick e i ban Non riusciamo ad individuare appieno qual è la strategia dei due team Però ci basterà un attimo per vedere come si disporranno sulla mappa per capire Sicuramente avremo Miki che giocherà nuovamente il Necrophos in posizione 1 In posizione di farm Levi Ackerman che parte con 3 tango addirittura verso la middle lane E poi abbiamo una trilane aggressiva addirittura Una trilane aggressiva No, forse semplicemente i due support vorranno ruotare top Magari per fare qualche fast kill E poi gireranno bot per dare spazio a Miki Per quanto riguarda Easy Fix invece Abbiamo Arte che giocherà Razor Probabilmente in posizione di top lane Cosa ne pensi? Giocherà in farm e in top? Arte? Lo vedo già con i boots Sì, la sua partenza è interessante Con i boots e un tango condiviso da un suo alleato Probabilmente condiviso, sì, direi da Ciano con l'Anciate a Parigi Sì, sicuramente sì Sì, direi che in middle lane Partendo con il Null Tiles Sicuramente ci andrà il pack Cosa ne pensi un po' di questo ritorno della Vengeful Spirit nel meta attuale? Non l'avamo visto per davvero tantissimo, tantissimo tempo questo eroe Sì, è utile La Venge è un eroe molto, molto utile Soprattutto con l'ultimo fix che ha subito alla sua Wave of Terror Alla sua seconda spell Che adesso è danno puro Cosa non indifferente Scala molto bene Fa 30, 50, 70, 90 danni puri E ha un armor reduction di 6 a livello 4 Quindi è davvero utile Quindi credo sia questo il motivo principale Per il quale è tornata a disposizione del meta competitivo Questa Wave of Terror Che è una spell veramente grossa, veramente forte Soprattutto quando combina con Heroi Ranger Vediamo Pack, vediamo Razor Pensi che abbia cambiato qualcosina il fatto che adesso la sua aura Passa in negativo a chi la uccide O è stato completamente ininfluente? Beh, dipende dal momento della morte della Venge Nel senso che se muore in un teamfight come primo hero E ad ammazzarla è il carry avversario Sicuramente quel meno 36% di damage Un pochino di fastidio lo dà Anche se non credo sia questo il motivo principale Per il quale è tornata nel meta Sicuramente è un più È una cosa in più che ha a disposizione la Venge Però sicuramente la sua spell principale È la Wave of Terror Assolutamente E intanto probabilmente assisteremo Alla prima rotazione della partita Anzi, come la partita precedente Hanno deciso di abbandonare questa idea di fare 3 lane Per posizionarsi in 2 lane E c'è un po' di aggressione top E invece il first blood con un'ultima orb È arrivata dal pack Ma gli ultimi attacchi della torre Ne hanno fatto piazza pulita Uno pari L'esperienza però è andata solo a pack Quindi da questo punto di vista Ha guadagnato qualche vantaggio E tra l'altro c'era anche la Venge of Spirit Pronta in una rotazione Non è servito assolutamente niente C'è ancora un po' di azione top? No Semplicemente un po' di scambio di colpi Posizione molto aggressiva da parte di Ciano Vediamo se sarà Un altro po' di aggressione in mid lane Sta arrivando anche il Giacchiro crocchetta Per dare un po' di aiuto E comunque i lupi hanno continuato a scautare Questi movimenti avversari Quindi nulla di fatto Intanto La bottom lane si è trasformata in Un uno contro uno tra pesce e micchi È una lane che credo che farà Abbastanza difficoltà Il Faces Voice Sei d'accordo con me? Sì sì sono completamente d'accordo con te Il Necrophos è un eroe molto resistente Poi grazie alla sua Hairstopper aura Fa veramente danni Cioè dà fastidio Dà molto fastidio Quella passiva del Necrophos E poi assolutamente Grazie al suo death pulse Riesce tranquillamente a Rigenerare una buona quantità di HP E a resistere Soprattutto nella Uno contro uno Tanto c'è una rotation Attenzione una rotation di Ciano Vediamo se sarà abbastanza Arriva il cilintaccio I danni sono tanti Ma non c'è nessuno stun Per tenere micchi sotto controllo Ha già i boots Quindi si è potuto allontanare Sì li aveva appena comprati Quei boots gli hanno salvato la vita Probabilmente Li aveva appena comprati Nello shop laterale E come abbiamo visto Grazie al suo movement speed È riuscito ad andarsene via Tranquillamente Ennesima rotazione Per il team Easy Fix Zenigata si è spostato In posizione molto aggressiva Sta cominciando ad aggredire il Lion Lion Ha costretto a utilizzare il suo X Per allontanarsi dai guai Ha utilizzato anche l'Air Spike Quindi Zenigata È costretto alla ritirata Abbiamo già visto Tutte le potenzialità di danni Di questa Vengeful Spirit Sfortunatamente senza mana Ha una Clarity Volendo per riportarsi In una buona posizione Questa catapulta Si è distratta Per qualche strano motivo Finalmente utilizzata la Clarity Ha già il mana Fra poco avrà già il mana Per la sua combo Quindi un po' di aggressione Probabilmente arriverà Nessun Non è ancora stata presa la skill Da parte di Ciano Vediamo se deciderà Di andare per un cold fit E aiutare un po' Il gank O magari L'ice vortex Per aumentare I danni magici Ed ecco infine Arrivata l'aggressione Ciano era molto distante Ha finalmente utilizzato Il Cilintacce Un paio di hit Sono stati abbastanza Per eliminare Completamente E anche questa partita L'early game Per Miki Si sta facendo Molto molto difficile Eh sì Magari il suo team Deve concedergli Un po' di vision Deve dargli un po' di vision Nel senso che Due secondi fa Erano venuti a gankar Avevano ruotato Entrambi i support Sia Ciano Che Zenigata Quindi magari Era forse più Era forse migliore Come scelta Quella di rimanere Un po' più safe Un po' più difensivo Soprattutto perché I tuoi support Se ne erano andati Era arrivata Derde a proteggere Miki Però adesso In quel momento Era dovuto Beccare Era stato costretto A beccare Perché non aveva più HP Non aveva più Tanta attenzione Rischia Derde Rischia tantissimo Derde Rischia E vediamo Lo stun è già stato utilizzato Ma arriva anche Il contro stun Arriva l'ex Ma Pesce decide Di entrare Aggredendo Completamente Gli avversari Miki forse sta cominciando A rischiare tanto Un altro hit È riuscito a utilizzare La cura Forse Pesce sarà In difficoltà Ultimo hit Della torre Sessanta Settanta punti vita Tre secondi ancora Per allontanarsi No Niente di fatto Ancora un'altra kill Per l'easy fix Siamo 4 a 1 Per loro Nonostante I bassissi punti vita Ultimo hit No È broccato Il poor man Quindi non c'è Niente da fare Zenigata ha dirottato Una creep wave Nel frattempo Verso i Gli ancient Utilizza Anche la wave of terror Un po' di farm Gratuto Comunque in tutto questo Non abbiamo ancora parlato Della middle lane In cui il pack Sta decisamente Decisamente Dominando Levi Ackerman È avanti Di 15-16 last hit E ha anche guadagnato Una kill Anzi Due Se contiamo anche L'assist Percedente Sta davvero andando Tanto bene Che è costretto Il lion A ruotare In posizione difensiva Per aiutare Il suo Laika Mi sembra un pochino Un pochino strano Che Il Levi Soffre Così tanto Questo pack Sicuramente Il pack È un eroe Molto versatile Molto agile Ha tantissima mobility Grazie alla sua Orb Quindi riesce Tranquillamente Ad arrasarti E ad uscire A entrare Dalle situazioni Di pericolo Però il Laika Con una buona micro Riesce a farmare Tranquillamente Attenzione E ingaggio Sulle Levi Che utilizza Istantaneamente Quella runa East Sì quella runa Scusatemi Quella runa invisibility Che aveva preso Lì in top Quindi si riesce Riesce a salvare Riesce a Portare a casa La pelle E Tanto rotation Di Di derde Molto ben eseguita E No Grazie Niente Poco da fare C'è arrivato anche Zenigata E no Questa middle lane Ci sta dando Poca soddisfazione Anche se Il Lion Nel frattempo È stato ucciso Da pack Pensavo fosse Allontanato Verso Sottoline Invece Era rimasto Nel mezzo Dell'azione Uno per uno Non so se è stato Uno scambio Molto vantaggioso Per Non proprio tanto Scelta molto Aggressiva Di Molto aggressiva Di Giga Che aveva Fiutato il kill Aveva visto Derde Con pochissimi HP Quindi ha deciso Di Dive Però giustamente È stato troppo Troppo aggressivo Ed è morto Come hai detto tu Non è stata forse Una scelta Ottimale Per quanto riguarda Il team Easyfix Perché un support Per un midder Che sta Snobollando Cioè in quel momento Puck Stava andando Benissimo Quindi forse È stata Un'aggressione Di troppo Attenzione Bot Bot ha ingaggiato Istantaneamente La chronosphere Per la prima volta Utilizzata nella partita E con l'aiuto di Giga È stato abbastanza Per fare Piazza pulita Di Mickey Intanto in top lane C'è finalmente Il livello 6 Per Il centauro Forse avrebbe potuto Utilizzare Lo stampede Per salvare Il proprio alleato Ma invece Hanno deciso Di Non farlo Comunque È a livello 6 La sua lane È stata davvero Difficile C'è ancora azione Stampede Utilizzato Per la middle lane E ancora Un'altra kill Per l'Easyfix 7 a 2 Questa volta Il last hit È andato A Zenigata È riuscito A guadagnare La sua Seconda kill Con 3 assist Sta facendo Davvero miracoli È già stato in 5 delle 7 kill Del suo team Adesso arriva anche Una smoke Magari spererà Di guadagnare La terza kill O il quarto assist Direttamente verso La bottom lane Possiamo anche Guardare I disegni Sulla mappa Per L'Easyfix C'è il Lion In posizione difensiva Ma che Questa aggressione C'è davvero poco Da fare È arrivato Pesce Ha ingaggiato Direttamente Il Cilintouch I danni sono Tantissimi Reapersight Su Pesce Non c'è stato Il backtrack Ancora Benissimo In possibilità Di continuare In seguimento Lion si trova In una posizione Isolata Forse riuscirà A teletrasportarsi Via L'ultimo attacco È arrivato Troppo tardi Pesce Era bloccato Dai suoi alleati Quindi Una sola kill Ma è comunque Una kill Ancora una volta Sul necro Sul carry Del team next game Eh sì Molto bene Molto bene D'erder Riuscito a Tipsi A pelo Per un pelo Riuscito ad andarsene via Dicevi No backtrack Per quanto riguarda Pesce Infatti Come vediamo Non l'ha neanche spellato Quindi Zero per cento Zero per cento Zero probabilità Di backtrackare Siamo già Due a nove Questa partita È un po' Forse Ha più Senso unico Rispetto a Quell'altra Se prima In next gaming Nonostante Una lane phase Un po' carente Sono riusciti a recuperare Un pochino Lo svantaggio Grazie a delle ottime rotation Adesso invece Sembrano veramente Bloccati Sembra che non riescono A far valere I loro pick Il lycan Comunque In tutto questo Sta farmando Abbastanza bene È in seconda posizione Appena 500 godi di distanza Dal pack Che da canto suo Ha molte più kill E assist Di Levi Ackerman Il lycan È un eroe Che farma Molto facilmente Vediamo Magari sarà lui La possibilità Di tornare In partita Per le easy fix Aggressione Nel frattempo In top of lane Doppia tp Arriva anche Il dream coil È abbastanza Per uccidere Il lion E ancora Una volta Mickey Finisce per cadere Killingsby Per il pack È 5 2 3 Un punteggio davvero Fantastico E C'è poco da volerti più Con il pack No? È difficile Pensare A una situazione Migliore Per un pack È sì Una partita Uh attenzione Altro ingaggio Questo Macrofire Da parte del Jakiro Macrofire È stato un pochino Un pochino Pretenzioso Nel senso che Sicuramente Non poter Non avrebbe potuto Fare nessun kill Giustamente Gli easy fix Hanno fiutato Il kill Pesce è salta E jumpato Sul Jakiro Stando a casa Addirittura Ancora un altro kill Stavo un attimo Guardando La skill build Di arte Con il suo razzo Molto interessante La scelta Di maxare Sia il plasma field Che lo static link Dopodiché Addirittura A livello 9 Ha preso La ultimate Ha cercato Ha deciso Di spellare L'ultimate Lie of the storm Magari Proprio perché Essendo in una situazione Di uno contro uno Poteva fare tanta exp Aveva a disposizione Tanta esperienza gratuita Attenzione Ingaggio sul levy Per un pelo Non è stato preso Non è stato preso Eh sì Ci ha provato Ancient apparition Nel frattempo Ucciso Da un lion Forse ha utilizzato Non ha nemmeno utilizzato La sua ultimate Quindi sono bastati Anzi no Probabilmente ha guadagnato Il livello 6 Proprio con quella kill Perché ha 14 Punti esperienza Oltre Il livello 6 C'è stato L'aiuto Da parte di Seven Che vediamo È veramente Bassissimo Ad HP È tornato in frontale Finalmente Una buona kill Per Mickey È riuscito a entrare In partita È 1-4 Ma quella kill Comunque Era sulla Vengeful Spirit No era solo A due kill Quindi non aveva Una kill in spirit Ma tutto sommato Almeno un buon passo Nella direzione giusta Per Mickey Ah sì Giga intanto Sta andando via Veramente Veramente Basso D'HP Aveva circa 32 HP Grazie allo switch Dei power threats Su strength È riuscito A salvarsi Veramente Veramente Bravo Giga Veramente Tempestiva La scelta Di scambiare I boots Dato Ritorno a mid Con una smoke Senta di Proseguire nel seguimento È arrivato L'ice blast Ma non ha colpito Levi Akram Si è nascosto In mezzo Agli alberi I suoi lupi Continuano A esplorare La situazione Abbiamo 3 giocatori Dyer nel frattempo Top E sì Sono riusciti a guadagnare Una kill Su pesce Ne ho perso il finale Quindi non ho visto Sì È la prima kill Grazie alla blink dagger Del centauro È arrivata Al momento Perfetto Sta cominciando Sta cominciando A far fruttare Quella blink dagger 7 giustamente Il centauro Appena chiude la sua blink dagger Deve far sentire La sua presenza Non la sua possenza In lane Grazie al suo Double edge Al suo stomp Riesce a fare Tantissimi Tantissimi danni Detto questa statistica Interessante Quando il puck riesce a realizzare Un blink dagger Fra i 10 E 15 minuti Non ho letto il finale Il suo win rate Si alza al 60% Si alza al 60% Eh sì È davvero tanto Infatti Attenzione E ingaggio su Levi Utilizzato il dream coil Zenigata Non ha visione No Finalmente Riesce ad avercelo Arriva lo stun Levi Ackerman Decide di utilizzare La sua ultimate Magari provare a spezzare Il dream coil Per allontanarsi Smoke immediata Ma c'è anche Il controingaggio Da parte del centauro Stan double edge E il finger of dead Il dito del lion È bastato Per guadagnare una kill Il pack Comunque è riuscito Ad allontanarsi Questa blink dagger Sta facendo Davvero davvero Fruttare la scelta Del pack Si Assolutamente Si sta giocando Molto aggressivo Giga E È comunque Un trade positivo Perché hanno Eliminato il carry Dei next gaming Pagando Con la vita Della venge Altro ingaggio Mid Altro ingaggio Mid Questa volta Però forse Era troppo fiducioso No Crocchetta È il primo a cadere Non c'è ancora La finger of dead Un cooldown Lunghissimo A livello 1 Arriva anche L'ice blast Non colpisce nessuno Riesce ad allontanarsi Il pack Con l'orb Riesce ad avvicinarsi Body block Da parte di Levi Ackerman Ma vediamo Se riuscirà Ad attaccare L'outu Ancora Si Un paio di critici Sono abbastante Con questa ultimate Il phase shift Potrà anche Continuare L'inseguimento Zenigata È in mezzo all'azione Ad utilizzare Un swap Probabilmente Magari con un suo alleato Se vuole Sacrificare la vita No Ma il phase shift Termina Quindi Levi Ackerman È costretto A bloccare L'inseguimento 7 a 16 Comunque Il risultato Se guardiamo il grafico Siamo Ma pensavo Stesse andando Un po' peggio Invece Sono all'incirca 5-6 minuti Che è rimasto Attorno ai 5-7000 goal Di vantaggio Per l'Easy fix Niente di Insommortabile Anche l'esperienza Ha fatto qualche su e giù Ma non è Troppo Troppo distante Sì Giga continua A giocare Sta aggressivo Con quel pack E a volte Gli va bene A volte no Questa cosa Però non fa altro Che piacere I next gaming Che hanno Comunque Un Lycan Un hero Che in late game Scala molto bene A dispetto Di un pack Che invece È un hero Che in late game Soffre un po' Diciamo che Esprime Tutta la sua forza Nell'early E nel middle game Poi a meno che Questa scelta Di Rochelle Potrebbe costare Tantissimo Gli Zvix Double edge Stun Ice puff E Arta il telsic Terzo a cadere Zenigata Prosegue l'inseguimento Arriva l'ice blast Su tre Però Zenigata L'ex L'ha bloccato E il centauro Forse finirà per cadere Dall'ultimo colpo Di Ciano Ma Ciano pagherà Con la sua vita Questo ingaggio Davvero Una manovra Molto 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 Rischiosa Da parte di Zvix Un azzardo Completo Tentare questo Roshan Senza assicurarsi Di Non sapere Di avere visione Sulle posizioni Gli eroi avversari Soprattutto perché Adesso l'hanno regalato Hanno regalato Questo Roshan A A InX Gaming Tanto no Si inserisce Giga Si inserisce Riesce a Tancare Una Finger of Dead Prosegue l'inseguimento E forse Ha un orb a disposizione Vediamo Decidono di inseguire No Si accontentano Di continuare Roshan Anche se Finalmente La Cronosphere È fuori dal cooldown Decide di andare Pesce direttamente Sul Lion Indisturbato Il Lycan Ha guadagnato Legis Ma gli è terminato Il Faceshift E credo che a questo punto Finirà per Morire Una seconda volta I suoi elati Sono troppo distanti E non ha il Faceshift E infatti Arriva Giga Arriva la Vengeful Arriva a tutti Ma è arrivato anche Il Centauro Stan Su tre giocatori Per aiutare Il Lycan La che continua A cercare di allontanarsi Bottiglia Continuamente Per Ritornare un po' A vita Il Medaglione Ma arriva anche Il Dream Coil E per lui Non c'è niente da fare Prosegue anche L'inseguimento Verso La parte Della giungla Verso la T1 E bellissima Ice Blast Colpisce E colpisce Ed è una kill Immediata C'è anche Crocchetta Nel frattempo In una bruttissima situazione Un po' Di Bad manner Amichevoli Tra i due team Ma a questo punto Direi che I next game Stanno un po' Ferdendo di concentrazione Perché la Quarta o quinta kill Che danno in solitaria Bruttissima scelta Quella di farlo Roshan per Easyfix Ma tutto sommato Gli è andata Quasi bene Direi Eh assolutamente Sì Sono riusciti a capovolgere Quella situazione Di svantaggio È stata È stata fondamentale La giocata di Giga Che ha distratto Il Lycan Lo ha portato via Addirittura Quasi verso la Middle lane Ha perso Quei 5-6 secondi Di danni Sur Roshan Che poi hanno permesso Al team Easyfix Di ritornare Di ucciderlo La prima volta Ucciderlo La seconda volta E addirittura Eliminare anche Il Centauro Che si era Immolato Per salvare Il suo compagno Miki addirittura Completamente Out of position Mid Viene ucciso Per la settima volta 1-7-0 Ha inseguito Giga Ha inseguito il pack Sperando di riuscire A colpirelo Con un Reapersight Ma tra Faceshift Eul e Blink Non ha mai avuto La possibilità Di utilizzare La sua R La sua Ultimate È davvero Davvero difficile Eh sì L'esperienza Superiore Degli Easyfix Si fa sentire Nel senso che Non fanno Mai nulla a caso Magari forse L'unica cosa Un po' Un po' Un po' Leggerina Che avevano fatto Era la scelta Di fare quel Roshan lì Dove avevano subito Quel Team Wipe Che però Hanno completamente Capavolto Il loro vantaggio Grazie Grazie Come ripeto Alla giocata Di Giga Forse finalmente È una kill Che andrà Per Ginex Gaming E vediamo se Arriva il Reapersight E quindi È una kill Garantita Sul Razor Continua forse L'inseguimento Su Ciano Vediamo se decideranno Di farlo La Blink Dagger È fuori dal cooldown Infatti Arriva il Blink Arriva il Stomp Arriva il Devil Edge L'Eyespuff Ma ha un bellissimo swap Da parte di Zenigata Non è stata abbastanza E invece Dream Coil Su 5 persone Silence Ziga I numeri Fai i numeri Continua l'inseguimento E arriva anche la Cronosphere E con questa direi che Non ci sarà Niente da fare Ha anche Riuscito a completare Una Dagon È rimasto in vita Solo Mickey Ma l'inseguimento Probabilmente Continua Ancora una volta Vuole cercare di guadagnare Una kill sul pack Ma Eul Faceshift E tutto il resto È abbastanza Per salvarsi La vita Con appena 50 Punti vita È un Team Wipe Per l'Easyfix Eh sì Si sono fatti ingolosire Dalla kill Sul Ancient Apparition L'hanno Diveato È arrivato Zenigata Ha fatto un ottimo swap Settando il Team Fight Dando la possibilità Poi ovviamente Al Void Al Pack Di settare A perfezione Le loro skill Ha bloccato anche Il suo collega Pack Dimmi Eri scomparso Per un attimino Quindi Io? Eh Forse un po' di problemi Un po' di problemi Di voce Al mic Al microfono Vedo un attimo Di risolverli No ma È scomparso solo per Pochissimi secondi E solo questa volta In generale Ok ok Meno male Meno male Perché ultimamente Si Le persone che sono in TS Come si lamentano Un pochino del mio microfono Attenzione Ottimo Blink mid Eh sì Zenigata Si lascia Ma se non servite Tre Tre giocatori In smoke Tutto sommato Sono riusciti a guadagnare Una kill Solo sul Vengeful Spirit Support Che tutto sommato Comunque è già Livello Dieci Non è messa Per niente male Anche la Ancient Apparition Livello undici Ha già a disposizione L'ultimate Di secondo livello Invece I support No anche i support Avversari Sono messi Relativamente bene Pensavo fosse una situazione Diversa Diversa invece Il farm È abbastanza diviso C'è un inserimento In due punti della mappa Vediamo se Forse Giga Questa volta Si è trovato un po' Troppo in profondità In territorio nemico Buono stomp Double edge E finger of dead Tutto sommato Il pack è ancora Un eroe Che è abbastanza squishy Abbastanza facile Da uccidere Se lo si riesce a controllare Ed è quello forse La cosa più difficile Fighter Cup Una sola kill Sul pack Ha dato 1280 gold Al team next game E 3000 di esperienza Radiance Middle Tower Eh sì Non mi stancherò mai di dirlo Con questa famosissima patch 682 Il comeback È sempre dietro l'angolo No? È troppo importante Non dare kill Al team avversario Anche se si sta dominando La grande Come hai detto tu Basta una morte Sono circa 3k di exp Sono davvero Un'infinità Sono davvero tanti Sai a proposito Per fare un po' Lo stesso discorso Della barita precedente Hanno deciso questa partita Di dare Priorità di farm A Zenigata Invece che A Chano L'Easyfix Non so Pensi Valga la pena Magari fare un aganim Per Il Lenset Apparition O ormai sono un po' Passati i tempi In cui l'aganim Era fondamentale Per questo eroe Beh diciamo che Non è proprio fondamentale Come lo è Come l'aga Per esempio Per Logre Maggi O per il Witch Doctor Però è comunque un item Che Dà un notevole boost All'Anset Apparition Diciamo che Se ce n'è la possibilità Assolutamente Sì Assolutamente Bisogna farmarlo Quella Quella Aganim Scepter C'è stata un'azione Mid Sì Un continuo inserimento E sono morti Un po' tutti Jackiro solo È rimasto Isolato dagli altri Anzi E il Lion Ma Arriva anche il pack E forse riuscirà a fare qualcosa 20 secondi ancora di cooldown È arrivato Pesce Avrebbe la Cronosphere Ma non ce n'è bisogno Basha Come se non ci fosse un domani Cronosphere Che ha colpito Più giocatori alleati Che giocatori avversari Da parte di Pesce Ma non c'è Niente da fare Per i next game Vedo ping In tutte le parti Della partita E con questo Cronosphere Utilizzata Un qualche cooldown Sì Non so se Avevamo finito poi Il discorso Tu chi preferiresti Dare priorità di farm Tra un Avengers Spirit E un Ancient Apparition Eh beh Ancient Apparition Tutta la vita Assolutamente E parlavamo Della forza Dell'Aganim Scepter L'Aganim Scepter Sull'Aganim Scepter Sull'Aganim Scepter È sempre un item Veramente grosso E veramente forte La Venge D'altro canto Quando chiude Il Medallion E la Force Staff È completa Diciamo Non ha più bisogno Di tanti oggetti È ancora un altro Swope perfetto Da parte di Zenigata Continua l'inseguimento Il Link Ha già rubato Solo 28 danni Quindi l'azione Non si potrà fermare Ma l'Ultimate L'Ancient Apparition L'Ice Blast Sta facendo miracoli In questo teamfight Già Due o tre eroi Che sono Distrutti Disintegrati Sotto i colpi Del Frostbit E con questo comunque È un solo eroi morti Contro tre Dei next game Quindi ci sarà probabilmente La T2 Mid E dopo di questa Vedremo cosa decideranno Di fare Gizifix Decideranno anzi Di inseguire Levi Ackerman Non c'è il Drink Oil A disposizione Quindi non hanno No il Drink Oil Ci sarebbe stato a disposizione Quindi forse avrebbero potuto Cercare di continuare L'inseguimento Invece Si sono fermati Per il momento Credo che adesso Gireranno verso No Roshan Manca ancora qualche minuto E beh Questa partita Anche è molto Molto difficile Per i next gaming Stiamo mettendo male C'è Pac Che sta snowballando A circa 2500 gold Nell'inventario E Spero Che non opti Per maxare Quella Dagon Credo che la lascerà A livello 1 No? Solitamente Su Pac Dopo Blink Dagger E Eul Scepter Si punta un pochino A Sight of Vise Ad un X O si punta Qualcosina Di più utile Rispetto a A una Dagon Che forse È un item un po' Un po' Un po' Per sbeffeggiare Gli avversari Tu che Che ne pensi? Della Dagon dicevi? Eh si La Dagon Sub Pac Ma forse Il suo ragionamento È stato un po' Davanti a tanti eroi Che sono relativamente squishy Il Lion Ma anche Il Nekro È piuttosto facile Da uccidere Solo 1200 punti vita Nonostante Un Ogre Club Nell'inventario Quindi magari lui ha pensato Con un po' Di Bersa Di farne Piazza pulita Dai Lo vedo Lo vedo Come un item Legittimo Dai Da questo punto di vista Siamo legittimo Ok ok Ma è sempre a proposito Del pack Cosa ne pensi Della Anzi mi fermo subito Perché c'è Una cronosphere sicura C'è stato anche Il Dream Coil Quindi Due ultimate Che sono Sovrapposte Una con l'altra È arrivato anche L'ice Blast Ma Non ce n'era bisogno Perché le kill Ci sono state E a proposito L'ice Blast Forse Ciano Rischia qualcosina Perché è arrivato Il Centaurum Arriva anche Il Cold Fit Arriva anche L'ice Boss E i danni magici Sono enormi Per Il team Easy Fix Quello che sembrava Un facile gank Da parte del Centaurum Invece si è Rivelato un disastro Anche se comunque Forse qualche kill Riusciranno a utilizzarla Reaper Sight E doppia kill Per Miki Ma sono solo Due support Anche il Courier Che non fa mai male Ma con questo È arrivato Il Razor E ha fatto Piazza pulita Di tutti gli eroi versiari Quando una squadra Si trova in vantaggio Di 9 Tra i 9 E gli 11.000 Gold E i 25 minuti Ha un win rate Del 92% E direi che Possiamo anche facilmente Capire perché Quando si arriva Così presto nel gioco Con un vantaggio Così elevato È davvero davvero Difficile per il team Avversario Fare qualsiasi cosa Abbiamo appena visto L'Easy Fix Hanno fatto un ingaggio Abbastanza dubbioso Ma erano talmente Farmati Che non c'era Alcuna possibilità Di fare qualcosa Dragon 4 Direttamente acquistato Da Gio E c'è anche Una gemma Per Ciano Per bloccare Completamente La misura C'è pesce che sta Sta facendo in solo Roshan Sta facendo in solo Roshan Non vedo come Possono Come possono Fermarlo In X Gaming Sarà assolutamente Un Roshan Per il suo team Per il suo team La Dagon 4 Subbacca Adesso diventa Veramente pericolosa Sono 700 danni magici In questo momento Della partita 700 danni magici Sul muso Fanno male Si fanno sentire Roshan Ucciso dai Dire Ma sarà pesce A raccogliere L'ambito premio Legis C'era stata una smoke Da parte Dei Next Game Non era Stata in tempo E quindi Non hanno potuto Fare niente Per contestare Questo Roshan Hanno deciso Giustamente Di ritirarsi Cosa devono fare In X Game Per riuscire A riprendere Un po' in mano Questa partita Qualcosa forse Stanno già facendo Con Levi Che split push Con i suoi necro 3 Si Levi Sta cercando Sta facendo Il suo lavoro Diciamo Sta cercando Di pushare Di farmare Qualcosina Ha il necro Livello 3 Quindi E' un discreto item Fa una buona quantità Di danni Però giustamente Easy fix In questo momento Sono una corazzata Sono veramente Fiddati E sono Molto molto Pericolosi Razor Guardate Razor a Aga A il Drums Il pack A la Dagon Livello 4 Il Void Anche molto farmato A Madness BKB E Mijonlir E scusate Milestorm Quindi Non saprei Sono in una In una situazione Un po' Pericolosa Easy fix E arriva E arriva Una bellissima Cronosphere Da pesce Quasi nella fog Quindi è riuscito A indirezzarla Molto bene Anche Ciano Aveva colpito Perfettamente L'avversario Con la sua Ice Blast Vediamo se Sta scelta Di fare qualcosina Doppio teletrasporto Verso top Ma non c'è Uno stun Eccolo Appena arrivato Lo stun Da parte di Zenigata Ma non è Abbastanza E' un eroe Molto resistente Ha molti punti vita Ma invece Con L'arrivo di pack Con il drink oil E con questa Dagon Livello 5 Abbiamo visto Come si è Completamente Disintegrato In pochissimi secondi Mille danni Fatti Dal pack In questo team fight In pochissimo Pochissimo tempo Eh si Premendo solo i tre tasti No Senza autoattaccare Ha fatto mille danni A povero Laikan E la Dagon 5 Sta pagando In questo momento Per Si sta pagando Assolutamente Per giga E' Sempre una scelta Che Io ritengo Più da pub Nel senso che Si vede raramente Una Dagon Livello 5 Su un pack Incompetitive Però giustamente Stai snowballando La tua squadra Sta andando alla grande Siete forti Giustamente La Dagon Ti permette di dare Ancora Quel più Nel team fight Sono quegli 800 danni Come abbiamo visto Fanno davvero male Si fanno sentire Laikan Le ha sentiti molto bene Ecco E sempre parlando di pack E' stato aggiunto Laganim Con l'ultima patch Cosa te ne sembra? Pensa che Avrà qualche uso Magari non in questa partita Perché di Eroi con BKB Forse se è solo Il Laikan Nel team avversario Ma magari in generale Ha migliorato un po' Laganim Per questo eroe Che prima faceva Decisamente Decisamente Schifo Sì è leggermente migliorato Però credo che Sia sempre più giusta Come scelta Quella di Buildare uno site of vice Un ex Comunque come dicevi bene tu Sappiamo no Che con Con Laganim Il dream coil Diventa 4 secondi e mezzo Quando si rompe Il Il Legaccio Diciamo Non mi sembra brutto dire Quando si rompe il filo Quando si spezza Ecco Sono circa 4 secondi e mezzo Di stun E va oltre la BKB Funziona anche sugli item Sugli eroi che hanno la BKB Quindi è un Un oggetto molto situazionale Laganim sul pack Serve in determinate situazioni Serve per bloccare Per bloccare Le BKB avversarie Per settare il team fight E quando magari In team avversario Ci sono molte BKB È utile Solo magari in quella situazione Le racks qui intanto Vanno giù Indisturbate Non c'è Non c'è assoluta possibilità Di contest Da parte dei Next Gaming Si sono accontentati Però di solo Quella Melee Quindi Sì hanno fatto bene Hanno fatto bene Hanno deciso di ritirarsi Giocando In effetti Manca ancora Per Legis Manca ancora Poco più di un minuto Quindi magari sarebbe Stato un po' rischioso Rimanere in zona E invece Decidono di rimanere in zona Mi contraddicono immediatamente Pesce Cronosphere E un paio di Attacchi da parte Del pack Con la sua Degolf Sono abbastanza Per far piazza pulita Del necro Ma è arrivato Immediato Il bayback E c'è comunque Azione Continua Miki Ancora un altro Swop perfetto Su arte Per salvare la vita Zenigata Ne paga Colpito dalla Finger of Dead Nonostante la pipa Del team Next Gaming Non c'è Niente da fare E continua In seguimento Sono due eroi morti Per adesso Arriva ancora una volta Il Reapersight È un doppio kill Da parte di Miki Sono salvati Sono riusciti A portare a casa La gemma Quindi Quella non l'hanno persa Tre eroi morti Più in Aegis Forse Hanno aspettato troppo A rimanere A togliere le tende Easy Fix Sì forse sì C'è stata una Una crono Da parte del Void Forse Poteva risparmiarsela Ecco Ma giustamente Quando sei Quando sei in vantaggio In vantaggio così grosso Rispetto ai tuoi avversari Puoi anche permetterti Queste giocate Ecco Puoi Poi solitamente Metterlo Però c'è da ricordarsi Sempre di questa famosa patch E Non bisogna regalare kill Agli avversari Quindi Meglio stare attento Infatti Pagano Mi sa Pagano Con questa T3 mid Perché giustamente Senza Pak Senza Cronosphere Senza Razor Come puoi difenderla? Pak Avrebbe il Bayback Ma forse Era stato ucciso Dal Reaper No Non c'è un Aganim Quindi il Bayback Può utilizzarlo L'ha utilizzato Molto in ritardo Forse avrebbe potuto Arrivare precedenza E cercare di fare qualcosina Blink Molto sfortunato In mezzo all'ice buff Vediamo se i next game Riusciranno ad approfittarne Per ora è caduto solo il centauro E' arrivato anche Lo swap E' riportato il centauro In mezzo all'azione E pesce Con una Triple kill Godlike Sono tre eroi morti In pochissimi secondi Sembra di essere In poi in una situazione Da pub Dove i due team Continuano a schiantarsi Uno contro l'altro In middle lane Ma Questa volta Probabilmente sarà Molto costosa Per i next game Hanno un Bayback Solo nel centauro Il Lycan Sarà fuori Dai giochi Per almeno 50 secondi Eh sì Sì Hanno comunque preso le racks Hanno comunque preso le millie racks Quindi E' stata comunque una Una vittoria Per quanto riguarda i next game Hanno pagato Hanno pagato Caro Questa Quella piccola disattenzione top I next I easy fix Hanno pagato con le racks Millie Sembrava un game Assolutamente in controllo E In circa 30 secondi I next game Sono riusciti a pushare E vediamo se riusciranno a fare qualcosa Ancora un altro Reapersight Da parte Reapersight Da parte di Mickey Perfetto Perfetto Pesce ha la BKB Ancora A 10 secondi di cooldown E la BKB Degli 8 secondi Quindi ce l'ha Ancora Molto Molto salubre E Hanno perso Il Razor Ha il Bebek Ma è stato Direi Molto Molto rapido Questo ingaggio 15 secondi ancora All'Ice Blast Probabilmente Aspetteranno Che torni Da il cooldown E a proposito Di build strane Solo adesso Stavo guardando La scelta Sull'Ancient Apparition Da parte di Ciano Ho deciso di mettere Punti in sazza Invece di portare Avanti Di livelli Cilintaccia E il Cold Fit Forse dovuto Alla scelta Al fatto che Di base L'Ancient Apparition È un hero Con molti pochi Attenzione Cronosphere Doppia Cronosphere E doppia Ice Blast Un'azione Fantastica Da parte di Pesce E di Ciano Sinergia completa Tra questi due giocatori Si vede che è un team Abituato a giocare insieme Davvero Davvero tanto tempo Eh sì Questa Questa doppia kill È stata molto Molto grave Per i Next Gaming Il Necrophos Era vicinissimo Vicinissimo A chiudere L'Aganim Era molto molto vicino Tanto attenzione Seven Ingaggia Ingaggia Ancora un altro Swap fantastico Da parte di Zenigata Ha anche completato L'Aganim Per fare ancora Miglior uso Di questa sua abilità E Cade Un'altra Rax Che a questo punto Siamo Quasi Nel reame Del GG Per i Next Gaming Intanto continuano A scherzare I player Sembrava essersi messa bene Per quanto riguarda I Next Gaming Stava andando benino Poi c'è stata Quella Cronosphere Perfetta Da parte di Pesce Che ha ucciso Due I due core Se non sbaglio Sono morti Sicuramente Necrophos E Quella Crono E I like a me Adesso mi metti Mi confondi Va bene Allora Comunque sono morti Due hero Quindi Non sono riusciti A difendere Le Rax E si è messa Ancora peggio La partita Nel senso che Adesso con Con tutti questi hero Fuori Con il Necrophos fuori Il lion fuori Il Centaur Warrunner fuori Pusceranno Tranquillamente Le Le Rax Ancora un'altra Bella Cronosphere Questa volta È arrivato l'icepuff E Pesce Sì Pesce Riescono a eliminarlo Non c'era Ancora Laganim Quindi sarà morto Per Lungo tempo Ma avrebbe a disposizione Il Bayback Ormai a questo punto È solo una continua Schermaglia Anche se sia stato Un completo Team whip Team wipe Per 10 fix Almeno Dal loro punto di vista Ancora Una T2 In bottom lane E una T2 top Quindi Di sicuro Le Rax Delle 6 lane Non potranno essere Pushate Da parte Dei next game Eh certo Potrebbero fare Un throne rush Potrebbero Fare un Rush al throne Guardate Quanta exp E quanti gold Hanno preso Con questo team fight Se guardiamo un attimo Il Riassunto Del Fight recap C'erano circa 3.700 gold Guadagnati 1.700 gold Persi Per gli Sfix E circa 10.000 Di exp Per Per i next gaming Vediamo se Questo sarà L'ultimo Ingaggio Della partita Il void Ha utilizzato Il bayback Quindi Dovesse morire Ancora una volta Sarà una situazione Tragica Per gli Sfix All'ultima La chronosphere Fa Appena 15 Secondi Quindi Avrà Possibile Utilizzare Intanto Ingaggio Da parte Di Giga Ha Mancato Completamente Tutti Anzi Si è ritrovato In una Bruttissima Posizione Icepuff Finger of Death E ancora Una volta È finito Per morire Arriva Pesce Ancora Un secondo La sua Chronosphere E la Utilizza Immediatamente Niki È il primo A cadere Vediamo Se Crocchetta Seguirà La stessa Fine E infatti È così Però Arriva Levi Ackerman I suoi danni Con i critici Sono Molto Molto Elevati Arriva Lo stun Da parte Di Zenigata La sua Aura Sta Aiutando Completamente I suoi Giocatori Continua Però L'inseguimento Del necro Arriva Anche Lo swap Un paio Di bash No I bash Non Arrivano Pesce In questo Frangente E' Piotus Fortunato No Eccoli Finalmente Continua Anche L'inseguimento Sul Centauro Si sono un po' saltati tutti gli schemi Nel senso che ormai si gioca per la gloria Sanno in X Gaming di essere con un piede nella fossa E hanno tentato il tutto per tutto mid Però quel buyback li ha costretti ad andare back Giga si è lanciato in maniera troppo aggressiva fra le fila nemica E' morto istantaneamente Per sua fortuna il resto del suo team è molto fiddato Void e Razor sono molto fiddati Quindi sono entrati nel teamfight E hanno spazzato via i next gaming Azione un po' confusa ripeto Però ovviamente è andata a vantaggio degli easyfix Quanto si fa sentire il vantaggio di farm in questi momenti Anche se negli ultimi teamfight siamo passati da 25.000 gol di vantaggio a solo 15.000 Quindi Un buon braio E' arrivata la chronosphere anche per Defense of Swords Eh si E' appena il limite per quanto riguarda il mana Avrà bisogno di mettere i threads su int Anzi no dai Con l'arrivo del refresher Un po' di intelligence l'ha guadagnata 3.5-400 Sì dai Dovrebbe riuscire a fare tutta la combo con Sì sì e riesce anche a fare Ad utilizzare la madness E a fare un Un timewalk magari Dato Questa ultimate da parte del center warrunner Erano sicuri che Gli next gamer erano sicuri di trovare Easyfix tutti nel pit di Roshan E invece Ancora aggressione troppo Una bellissima icepuff Tre eroi bloccati Arte è il primo a cadere Zenigata sta continuando l'inseguimento 110 secondi Con il Bebek che non c'è Chronosphere su due eroi Pesce è sempre stato perfetto Con la sua chronosphere Ha utilizzato il refresher Era quindi la seconda Arriva Levi Ackerman Prosegue l'inseguimento Pesce sta rischiando tantissimo Ha utilizzato il timewalk per allontanarsi E' il momento di cominciare La danza attorno all'Ikan Anche se lì era finito Il Shapeshift Quindi non aveva Alcuna possibilità di continuare l'inseguimento Team wipe ancora Un'altra volta Questa volta per Easyfix sui next gaming Due Tre soli Bebek Non mi capasso di come Continuano ad esserci Così tanti Bebek disponibili Dopo che ne sono stati Utilizzati Una quantità Assurda Così è Diamo un occhio Allo status Dei Bebek No in realtà sono solo i Dire Che hanno il Bebek In cooldown Quindi è passato Il tempo necessario Perché si Finisse il cooldown Per i Bebek precedenti Ancora 35 secondi Comunque all'ultimate Del Cronosphere Sono un po' Alpito I next gaming Stanno in grossa difficoltà Infatti vediamo che pesce si appresta A fare le mega creeps A pushare Quelle ultime due Racks Che sono rimaste Vogliono finirla Vogliono concludere Questa partita Sanno che Un altro eventuale Un altro eventuale Team wipe Potrebbe costargli caro Easyfix Non vogliono correre Alcun rischio Eul utilizzato su pesce Potrebbe essere gravissimo Venigata arriva però Riesce a salvarlo Ancora un altro swap Fantastico Venigata Non ha mai sbagliato niente Quattro giocatori bloccati All'interno della Cronosphere Vediamo se Riuscirà a farne Buon uso Ha ucciso Un solo giocatore Time walk Per evadere Gli attacchi dei nemici Ciano Finalmente Ha il suo agonimo a disposizione Ma credo che Rischierà Di cedere la vita Così è stato Forse i creep In arrivo Riusciranno a fare Piazza pulita Della Rax E a fare I mega creeps Anzi È arte Che ha deciso di utilizzare L'agrin Ha utilizzato I travels Ha una b-cap A disposizione Vediamo se deciderà Di utilizzarla Ecco l'arrivata I suoi danni Non sono tantissimi Però Forse finirà Per pagare Con la vita Quest'azione Un po' troppo Speranzosa Sì È arrivata Veramente bassa Quella Quella Rax Ranged Giustamente È stata una giocata Un pochino Per lo spettacolo Ripeto Sanno di essere forti Sanno di essere In stravantaggio E quindi magari Qualche giocata Un po' così Possono permettersela Però Intanto Diamo un pochino Occhiata Ai buyback Nessun Oddio Sì Hanno tre buyback Quindi sono comunque Tranquilli Non hanno grossi problemi E intanto comunque Il grafico dell'esperienza È quasi arrivato a zero Partendo da 25.000 Un recupero Un recupero di esperienza Fantastica E c'è da dire Che in effetti Magari anche Il team Team Next Gaming Potrebbe fare Buon uso Dell'esperienza Quasi meglio Di quello Degli Svix Ho sentito un Eulo Comunque nel frattempo E Giga Ancora una volta Bloccato E mobilizzato Da Crocchetta Crocchetta In seguito Però Da pesce Un paio di Stomp Sbagliato Completamente Dal Centauro Arriva Però La Legis È stata Attivata Ma I creep Sono riusciti a farsi La rax Quindi Sono a tutti gli effetti I mega creeps Dovessero vincere Gli Svix E per tutti In fight Non c'era Niente Da fare Per I next game 90 secondi In panchina Per Il Per il Ican E credo che a questo punto anche Mickey Finirà Per Can Eh sì Questo forse È il momento Della partita Attenzione Intanto Seven Tenta di ingaggiare In solo Ciano Che Anche Se ha una Raced Deve Beccare Costretto a Beccare E in questo momento Credo che la partita Sia Bella che finita Infatti le creeps Top Hanno fatto Hanno Dato gli ultimi 300 danni a quella A quella struttura Ci sono le mega creeps E pesce Attiva la bigata Bila madness E butterà giù Il trono Tranquillamente Viene chiamato Gigi Gigi Senza grosse sorprese Finisce anche questo Secondo game È stata una partita Molto divertente Ci siamo divertiti Sì Una Partita Direi Col finale È il cardiopalma Entrambi i team Con un avanti Indietro E in questa Middle lane Ci hanno fatto un po' Venire le palpitazioni Al cuore Ma comunque Come ci aspettavamo Per il vantaggio Di gold Che avevano L'easy fix Sono riusciti a guadagnare La vittoria Un po' Quel 92% Che ci diceva Cyberg Qualche tempo fa Ci ha rivelato Realistico Non siamo stati Nell'8% Di casi In cui Abbiamo assistito A un comeback In ogni caso Direi che Congratulazioni Al easy fix Sono arrivati i primi In questo torneo In win E quindi Hanno guadagnato Gli alimentatori Secondi saranno I next game Con i case Sempre della in win Che approfittiamo anche Per ringraziare Come sponsor Di questo torneo Approfittiamo anche Per ringraziare Drake e Dota2.it Per aver organizzato Un torneo Così divertente Direi Assolutamente Assolutamente Onorati Di averlo Potuto castare Qualcos'altro Da dire Sulla partita Sul torneo Nerv Cyber Ma no Mi associo Completamente Ai tuoi ringraziamenti E a tutto quello Che hai detto prima Quindi va benissimo Si è stato Un ottimo torneo Ben organizzato Con tante Tante squadre Quindi molto Molto bene Fa davvero Tanto bene Vedere questi tornei Per Per il competitivo Italiano Per il Dota Italiano Fa sempre bene Sì 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 Hanno colpito Molto Ha colpito Molto La partecipazione Delle squadre Cioè Se circa 72 O 72 squadre Ora non ricordo In totale È Una cosa Veramente Veramente Bella E complimenti Ovviamente Vincitori Assolutamente Direi che con questo È tutto Noi siamo I 5GG Brancis Sotto La schermata Di gioco Potete vedere I nostri link Come dicevo Dota2.it È Il sito Di chi ha organizzato Questo torneo Quindi date un'occhiata Anche a quello Date un'occhiata Anche ai prodotti InWin Che ha sponsorizzato Questo Torneo Alla prossima Seguiteci dappertutto La pagina di chi ha organizzato È 5GG Brancis È la nostra Assolutamente Ricordatevi seguirci ovunque Come diciamo sempre Ovunque 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 Anche a casa Mandateci Qualche regalo di Natale Che non fa Eh ma Anche in bagno Ovunque Ovunque Questo è tutto Ciao ragazzi Alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao